Buongiorno a tutti e a tutti, iniziamo dunque questa terza sessione del nostro convegno. Se la prima era stata dedicata al quadro internazionale, ricordo che è purtroppo mancata la relazione di Eugenio Di Rienzo, ma che non mancherà negli atti che pubblicheremo e ha promesso di inviarcelo, non possiamo dubitare che ciò avvenga per creare il secondo volume di quella trilogia che si sta costruendo, il cui primo volume è uscito l'anno passato. A questo riguardo invito anche tutti i relatore a tenere presente una deadline che ci siamo dati del mese di giugno del 2023 per la consegna dei testi, quindi c'è un ampio spazio a disposizione, chi avesse relazioni più o meno strutturate in cui si tratta solo di sistemare le note, ovviamente se lo consegnano prima fanno solo un piacere ai curatori, ma questo è il tempo perché possa uscire un secondo volume, poi un terzo quando sarà realizzato il terzo convegno. Se dunque la prima giornata era dedicata al quadro internazionale, quella di stamattina ai tre grandi spazi del decennio postunitario, la Torino decapitalizzata, il mezzogiorno preda di una guerra e il Veneto che entra a far parte del Regno d'Italia soltanto nel 1866, questa terza sessione sarà dedicata ad una serie di figure, di personalità tra politica e cultura, personalità apparentemente minori ma non per questo meno importanti, attive nel primo decennio unitario, ma molti di questi si portano dietro delle storie interessanti. La prima relazione è affidata a Emilio Torchio dell'Università di Padova, che è un italianista, laureato all'Università di Genova e addottorato all'Università di Padova, dove è stato borsista e assegnista, ha al suo attivo diversi volumi, monografie, curatele, si è occupato delle rime di Giovanni Guidicioni, del carteggio Pascoli d'Annunzio, pubblicato studi su Guidicioni, Carducci e su Marino e Leopardi. Oggi interverrà presentando una relazione su uno di quei personaggi poeti che hanno anche un ruolo politico, Giovanni Prati, Trentino, Esule a Torino, negli anni tra il regno di Carlo Alberto e il regno di Vittorio Emanuele II, e dove ebbe anche un incarico mai espletato di storiografo della Real Casa. Giovanni Prati e Casa Savoia, lascio la parola a Emilio Torchio. Bene, allora io ringrazio Mario Allegri, l'Accademia degli Agiati, per l'invito e per l'ospitalità. Il tema che mi è stato assegnato, Giovanni Prati e Casa Savoia, è un tema che può essere trattato da due punti di vista distinti, quello storico e quello letterario. Sono due punti di vista naturalmente complementari, che si trovano però riuniti poi solo in interpreti eccellenti. Ora, il punto di vista che a mio parere è più interessante è probabilmente il primo, cioè quello dello storico, che però purtroppo non è il mio. Da qui un certo imbarazzo, anche visto il pubblico di storici in prevalenza. Che effettivamente l'accesso storico sia quello più interessante, lo conferma un uomo come Enrico Panzacchi, che ha vissuto la seconda metà dell'Ottocento, un letterato, un scrittore, un poeta, che in una conferenza dei primi del secolo scorso, a proposito della poesia del 48, scrive Il 48 si presenta a noi come una suonante e fulgida pagina di poesia, la quale, più che nelle carte dei poeti, fu scritta nei fatti e nei cuori. Un poeta ispirato e fecondo fu allora il popolo italiano. Poco più avanti, dice Giovanni Prati e Goffredo Mameli, ecco due figure di poeti che vengono subito in mente pensando alle grandi ispirazioni poetiche di quell'epoca. Giovanni Prati non ebbe momenti felici nel 48, li avrà poi. Nel 48 è come uno strumento che si sforza a vibrare in tutte le sue corde, ma il gran motivo epico non esce da quello strumento. Di Goffredo Mameli troppo si è parlato, troppo si è voluto esaltare. E ancora poco più avanti, badisce, la grande poesia del 48 sta nei fatti principalmente e nelle condizioni degli animi. Ora, i rapporti tra Giovanni Prati e Casa Savoia iniziano in un modo obliquo. Per i non specialisti, Giovanni Prati nasce nel 1814, è una cinquantina di chilometri da qui, va a Padova a studiare legge, studia poco e malvolentieri. Dopodiché Nel si sposa perché la sua fidanzata dall'epoca era rimasta incinta, ma la moglie poi muore nel 39, mentre lui è a Padova e si dedica sostanzialmente alla poesia. Nel 41, per motivi non ben chiari, va a Milano, dice di avere già composto, di avere manoscritta l'Edmenegarda, e a Milano la pubblica. È un poema in cinque canti che ha subito un grande immediato successo che lo porta all'attenzione del pubblico più vasto. Per, di nuovo, motivi che non si riescono bene a individuare, da Milano si trasferisce a Torino. A maggio del 43 è già a Torino da qualche mese, almeno giudicando dalle parole che il pittore, esploratore Leonardo Fea scrive ad Ercole Ricotti. Dice che qui certi grandi lo pascono di promesse di Lusing, ma temo che alla fine dei conti Ehi sia forzato a ritornarsene a Milano, come è venuto. Siamo nel primo maggio del 43 e di lì, a un paio di settimane, Giuseppe Barbarù si uccide. Prati, toccato dalla vicenda umana dell'uomo, scrive un ode che ha un carattere appunto non politico ma umano. Ora, quest'ode viene conosciuta, letta, da Carlo Alberto che si trova in Sardegna. La fonte dovrebbe essere una fonte del tutto affidabile, c'è Gualterio e vedete che la data è anche una data molto alta. Gualterio dice che Carlo Alberto si trova in Sardegna, legge l'ode di Giovanni Prati e si affretta, per mezzo del ministro di Grazia e Giustizia, di assicurare il poeta che il suo cuore aveva lagrimato con quello del popolo. Probabilmente per questo motivo, di lì a poco, Carlo Alberto affida a Giovanni Prati, giovane già illustre poeta, il compito di scrivere alcune strofe da porre in musica ad uso dell'esercito. Le strofe furono scritte, ma la stampa e la distribuzione ne fu impedita, stante una nota collettiva dei ministri d'Austria e di Francia. Il re aveva già testimoniato al poeta la sua gratitudine con un donativo. Questo è il primo donativo di cui abbiamo notizia tra i Savoia, la Casa Savoia e Prati. Nell'inno, che viene peraltro, poi naturalmente circolerà a manoscritto, viene pubblicato molto rapidamente, Giovanni Prati fa quello che deve fare in un inno, insomma, e quindi poesia facile, viva il re, vivano sempre gli standardi dell'Italia e il nostro re, e poi esorta tutti all'Alpe sul Ticino, ci raccolga un sol pensiero, a Carlo Alberto e il suo destino. Questa è già la prospettiva che nel 43 Prati propone. Quello che ci interessa non è tanto il, strettamente, patriottismo di Giovanni Prati, di cui aveva già dato qualche prova in testi anteriori, ma il suo legame con Casa Savoia. Sono mesi in cui, appunto, Prati risiede a Torino, entra nelle discussioni letterarie molto accese, nelle lotte che sono tra il letterario e il politico. è costretto a prendere, ad esserne parte, e di lì a qualche mese scrive un'ode, in realtà una ballata romantica, che dedica al Conte Rosso, cioè Amedeo VII di Savoia, nonostante il soggetto sia storico, ne dà un trattamento, appunto, fantastico, e prende spunto, in realtà, da un ballo che era stato offerto l'anno prima dal fratello del re, del futuro re Vittorio Emanuele, in occasione delle nozze, appunto, del re. Legge il Conte Rosso ad Alba e, verso la fine, nonostante, appunto, il trattamento fantastico di cui parlavo prima, scrive questi versi. Or voi savoiardi del tempo novello, il nome e la storia del vostro fratello, recate sui labbri, pensate nel cor, degli ozzi blanditi non sente l'inganno, non sente la fede, dei dì che verranno, chi l'opre non cura del patrio valore. Quindi, un'esortazione a casa Savoia, che non credo sia stata presa male dai regnanti. Nonostante un biografo importante di Prati, dia questi versi come una delle cause che portano alla caduta in disgrazia di Prati in questi mesi del 43, viene denunciato per aver... parlato in modo blasfemo degli inni sacri, viene accusato dunque di irriverenza nei confronti della religione e si vede che la denuncia trova orecchie accoglienti perché effettivamente Giovanni Prati viene bandito da Firenze, c'è un decreto di espulsione entro, scusate, da Torino, entro 15 giorni. Siamo nell'inverno del 43, Prati si ammala e attraverso certificati medici riesce a procrastinare la sua dipartita da Torino. Le condizioni di salute apparentemente sono abbastanza gravi, le recupera un po' di salute soltanto nella primavera, a quel punto lì fa un po' finta di niente, la polizia sembra che si sia dimenticata di lui, in realtà a giugno del 44 è costretto ad andare via. Inizia un periodo di peregrinazioni nel nord Italia, tra Dasindo, tra Padova, probabilmente il suo centro, il suo punto di riferimento, Venezia, Unigo, vicino a Treviso, dove ha una storia d'amore, ci sono delle testimonianze che lo danno anche in Svizzera per breve tempo. In questo periodo Prati è un poeta politico. Chi è che... abbiamo la testimonianza di Alberto Mario, che in quegli anni è a Padova e così scrive, vivevano in Padova allora l'Aleardi e il Prati, e ogni sera a cena, ora in questa ed ora in quella bettola, ci declamavano i loro carmi patriottici e inediti, e noi si bruciava ad entusiasmo e si aspettava il gran giorno. Prati compone, parla nei bar, parla presso la... con i giovani, le testimonianze ci dicono, come questa di Mario, che è molto ascoltato, e i suoi versi circolano manoscritti. Tra i versi che Prati scrive, ce ne sono un gruppetto che effettivamente non pubblica subito, ma li fa circolare e ha l'intenzione poi di pubblicarli in Svizzera, o almeno così ci dicono alcune spie che avevano mandato dei dispacci ai loro superiori. Prati è inseguito dalle spie, le informazioni su di lui che ci sono rimaste sono parecchie, ed effettivamente queste poesie a Pio IX, a Carlo Alberto, all'Italia, sono poi datate intorno al 46-47, poi le pubblica successivamente. Costituiscono il primo nucleo queste poesie, delle poesie politiche che pubblica nel 50 e poi ampliate in questa edizione nel 52. Ad esempio, in questa poesia all'Italia, che cosa scrive Prati? Volgi, avvolgi gli sguardi accorati, là del tebro alle mistiche tende, credi e giura sul verbo che splende nella santa e perpetua città. Pio IX ha ancora un grande credito ai suoi occhi e Prati invoca un suo ruolo attivo. Scrive anche versi di questo tipo, in te surga una pia comunanza si sta rivolgendo all'Italia, nei bei fatti, con corde e rivalle. Sono versi che fanno ritornare con l'imbarazzo di cui parlavo prima, perché forse hanno più significato per uno storico che per un letterato. Ho l'impressione che qui stia alludendo a una delle soluzioni politiche che si discutevano. È strana questa formula con corde e rivalle, a meno che rivalle non significhi semplicemente emule, però non saprei dire. Un altro elemento interessante, oltre al biasimo dell'ozio, della negittosità che è ricorrente in questi versi, è questa sorta di idea utopica, ovvero che gli austriaci abbandonino, senza colpo ferire, l'Italia. Ma se il cielo è clemente, semmai cosa umana consola gli estinti, bella Italia, la fuga dei vinti fin sotterra esultarmi farà. Non la fuga di sangue bagnata, fuga orrenda di lanci e moschetti, ma un addio dalla terra usurpata che, varcato al confin del Patir, sorge e chiede e racquista i suoi tetti. Per quel diritto che, infuso alle genti, ferro e tempo, non basta a rapir. Anche rivolgendosi a Pio IX, scrive qualcosa di simile, presentati sulle tue sacre soglie, al possessor straniero che ha già si largo impero, prega che c'è tre soli maridoni ad Israele. Siamo qui probabilmente nell'ambito di un'idea neo-guelfa, cioè che si possa riottenere il territorio per la spontanea concessione degli stranieri. Rivolgendosi a Carlo Alberto, idem, alza la mano al Brennero che qua tant'odia scarchi, grave intimando all'ospito che in pace lo rivarchi. Indi a sperar confort, che Dio qui toglie un trono forse più largo dono, serba nel suo pensiero. Quest'ode a Carlo Alberto ci dimostra quello che noi sappiamo appunto dei dispacci delle spie, ovvero che Prati aveva scritto questi ed altri versi nel 46, poi li aveva consegnati ad un amico che naturalmente li avrà fatti girare manoscritti e poi con l'evoluzione della politica e della situazione biografica di Prati insomma finalmente arrivano alle stampe che abbiano una qualche circolazione, ce lo dice non solo appunto questa stampa Torino 1848, ma anche questa stampa modenese dello stesso inno. Vediamo qui una delle caratteristiche di questa produzione, che è una produzione che si affida alle plaquette che da un lato sono difficili per noi da recuperare però avevano una funzione pratica, cioè che il poeta guadagnava dalla loro vendita e il mestiere di Prati è il mestiere del poeta, anche quando sulla scheda del Senato alla voce professione c'è quella di poeta. Ora, dicevo che Prati è braccato dalla polizia la quale nel gennaio del 48 riesce a Prati a Padova, lo imprigiona, lo tiene in carcere almeno un mesetto per cui l'8 febbraio del 48, che è una data importante per Padova, per la messa di Padova, Prati è in carcere. Anche qui, adducendo motivi di salute, riesce a farsi scarcerare e poi fugge, e dove fugge? Fugge a Venezia. Ora, a Venezia siamo nel pieno di un dibattito politico tra i fusionisti e i repubblicani. Naturalmente Prati sta dalla parte dei fusionisti, conduce la solita vita di discussioni al caffè e di esposizione pubblica delle proprie idee, ma la sua posizione diventa difficile da sostenere dopo l'armistizio di Salasco. Ciò nonostante, continua a predicare il verbo albertista e Manin cosa fa? Fa arrestare lui ed altri albertisti e li manda via da Venezia. Abbiamo la testimonianza di Tommaseo che nell'operetta su Venezia nel 48 e nel 49 scrive a proposito di Torino «Torto disgrazia si fu avere il Prati in Venezia raccomandatore della fusione». Il Prati che aveva per più comodità di mutua licenza che per prezzo ceduta la moglie, questo è un pettegolezzo che insegue Prati per tutta la vita, e poi pianta la sua morte in elegia che pareva piena di cordali singulti e poi vendutosi alle voglie di donna ricca e patteggiato con i piemontesi per prezzo di non so quanti franchi, non so quante canzoni patria che non fece. E poi continua con questa maldicenza che certo non difettava, dice di avere ricevuto dei denari per versi in sua lode e da un principe di Savoia per certo suo inno patrio e di avere ricevuto anche una spilla. Prati quindi è costretto a desulare da Venezia e ha l'ottima idea di andare a Firenze dove conosceva Montanelli, però insieme a Montanelli c'è anche Guerrazzi, Prati continua a fare la propaganda per Carlo Alberto, pronuncia un discorso in un circolo politico il 13 novembre che suscita reazioni molto violente ma anche fisicamente violente, infatti a dicembre viene malmenato mentre è per strada, cerca di avere giustizia e in realtà riceve un decreto di espulsione e quindi a dicembre è costretto ad allontanarsi anche da Firenze e prima di partire decide di scrivere questa elegia politica Dolori e Giustizie dove raccontano le ultime vicende non repubblicano in Venezia repubblicana ebbi il carcere scusate, non repubblicano in Venezia repubblicana ebbi il carcere non democratico in Firenze democratica ebbi l'esilio quell'idea di repubblica era in Venezia un error di buonsenso una colpa di ingratitudine quella larva di democrazia era in Firenze un assurdo di fatto e una cagione di scandalo combattei l'una e l'altra come valsi col diritto del mio libero pensiero e mi risposero di tal mercede quei repubblicani, santi e democratici puri che ne avrebbe arrossito il più impudico sgherro imperiale ora poi nella nelle elegia, nei versi si vuole difendere da questa accusa di essere un prezzolato a servizio di casa Savoia si rivolge al re e dice io ti cantai se ne cri le ghe mani scagliare la pietra sulla raminga è povera ma liberal mi accetra e fersi nedrio e dissero le iene del deserto che il fulgi d'oro d'Alberto i canti miei comprò vili dannate il perfido labbro a sigillo eterno ma me la latrata ingiuria fa soghignar di scherno vili le meste pagine a rigo dei miei sudori ma non ha gemme ed ori per comperarle un re l'orgoglio di Prati trova poi se facciamo a tempo lo vediamo una conferma nella vita che ha sempre condotto una vita sostanzialmente quasi povera e anche nei denari che poi lascia in eredità la figlia che vengono giudicati di una somma assolutamente modesta finalmente Prati va nell'unica città dove senz'altro era ben accolto ovvero a Torino da questo momento in poi la vita di Prati segue le vicende della della capitale quindi sta a Torino poi nel 65 è tra quelli che si spostano e va a Firenze e poi si sposta di nuovo a Roma a Torino dove arriva appunto tra gli ultimi giorni del 48 e prima del 49 si trova subito di fronte a dover affrontare la tragedia di Novara che canta nei morti di Novara e poi la bidicazione e poi naturalmente inizia a cantare la morte di Carlo Alberto e dedica lode dedica lode a Manzoni ricordando il fu vera gloria e quindi cerca di sollecitare Manzoni a scrivere qualche cosa naturalmente senza senza esito canta l'arrivo delle ceneri di Carlo Alberto dedicando lode questa volta a Cesare Balbo dopodiché vedete qui una poesia questa è una notazione letteraria la statua di Emanuele Filiberto e la Sentinella dove troviamo degli accenti satirici che sono l'incunabolo di uno stile di cui lui poi farà uso in un poema di cui tra poco parliamo che è l'Ariberto riunisce le poesie politiche nel 1850 vedete il frontespizzo significativamente è Italia Italia 1850 dopodiché le Repubblica un paio d'anni dopo ampliate ne abbiamo già visto nel 1852 sono anni questi in cui Prati continuano a celebrare gli eventi e i personaggi di Casa Savoia celebra le nozze di Ferdinando di Savoia Savoia Genova la nascita di Carlo Alberto Luca di Chiablese scrive un'ode a Umberto nell'anniversario della morte di Carlo Alberto Maria Adelaide la moglie di Vittorio Emanuele Maria Teresa di Toscana la moglie di Carlo Alberto quando muoiono entrambi nel 55 a poca distanza pochi giorni di distanza celebra per la morte di due regine il suo ruolo è talmente evidente che sulla Revue de De Monde Charles de Mazade in questa rubrica appunto in cui tratta degli argomenti più disparati viene a parlare dell'attività letteraria in Piemonte e dice che in originario di Trento Prati si è naturalizzato in qualche modo piemontese facendosi cantore di Carlo Alberto e Prati è in questo momento il poeta del Piemonte il suo ruolo viene in questo modo riconosciuto alla fine del decennio si prepara la guerra del 59 e quindi Prati scrive dunque i destini d'Italia si risolveranno sui campi è triste cosa che il sacro diritto di un agente abbia da confidare alla fortuna dell'armi probabilmente pensava a Novara e poi inizia ad avere un ruolo più evidente nella sua poesia la Francia or l'Italia che sull'Alpe che all'Alpe s'aduna col suo re con la Francia sorella sembra abbiamo delle testimonianze forse non del tutto affidabili ma insomma che nel 59 dopo San Martino e Solferino Prati vada sul campo di battaglia parli a lungo con l'imperatore raccomandando la causa del del Trentino già Vittorio vi accenna le mete che tentò con Fernando ed Alberto vedete che recupera la Novara quei due morti svegliare voi dovete che con voi ricombattano ancora alla spada del piccolo Umberto preparate fortune più vaste altro momento di grande celebrazione pubblica quello che è intorno al 1860 il Cantico d'Italia dove troviamo l'epigrafe a Trento non ancora rappresentata nel Parlamento nazionale poi sempre nel 60 maggio la marsigliese degli italiani nel 61 la Pasqua d'Italia dedicata a Cavour dunque prima della morte il 6 giugno e a Italia per il per il 2 giugno di quell'anno accanto a questa linea di Repubblica esiste anche una linea più privata di diciamo di celebrazione della delle sue idee politiche insomma e che noi troviamo in un'altra raccolta che pubblica nel 1860 sempre si intitola Va de Mecum dove alcuni sonetti hanno una chiara impronta impronta patriottica in questa doppia linea direi che noi troviamo una conferma della sincerità dei suoi sentimenti questi sono i testi di cui vi ho parlato prima accanto a queste placette Prati in questi anni si produce in due poemi di differente natura il primo è quello più letterariamente interessante è questo che si intitola Riberto ed è una sorta di romanzo storico inversi ci sono due nuclei da una parte c'è il nucleo privato naturalmente sentimentale che i cui protagonisti sviluppano la loro vita immersi nelle vicende del risorgimento aveva letto con particolare attenzione non solo il romanzo di Manzone ma anche gli scritti teorici l'altro poema invece è un poema del tutto pubblico ed è il Amedeo VI conte verde Amedeo VI che è il padre di quell'Amedeo VII naturalmente dopo esatto è il padre del conte rosso ed è il figlio di quell'Amedeo V celebrato da Gabriello Chiabrera nell'Amedeide per cui Casa Savoia ha tutta questa genealogia cantata in versi l'Amedeide è l'unico maggio reso alla carica comodestissimo stipendio assegnata di istoriografo della Corona almeno così sostiene Gabetti che è quel biografo di Prati di cui parlavamo prima dal punto di vista del contenuto segue un'operetta di Guglielmo Stefani di Fuglia Gavettiva pubblicata qualche anno prima appunto sul Conte Verde come vedete il Conte Verde viene pubblicato in occasione delle nozze di Maria Pia di Savoia con Luigi di Braganza e i due stemmi sono sul frontespizio in apertura del Conte Verde noi troviamo queste righe in cui Prati rivendica la sua lungimiranza io cantavo vent'anni fa casa Savoia e adesso si è dimostrato sostanzialmente che avevo ragione l'autore nell'aver immaginato e composto il presente poema storico fu lieto non solo di adempiere ad un mandato onorifico ed alto ma di offrire Zendio una prova di più della sua devozione ferma ed antica alla persona del re dalla causa della monarchia in Italia già un senso profetico quasi interprete dei segreti istinti della nazione lo avvertiva or sono vent'anni che in questa ammirabile casa di principi riposerebbe la futura salute della sua patria l'evento ha consacrato il presagio finalmente può dire tra le frasi più dolci che si possono pronunciare avevo ragione meglio nel 65 dicevo si si sposta a Firenze e dopodiché in occasione della terza guerra di nuovo si fa poeta poeta pubblico dopo la guerra e qui di nuovo torna a pungolare i Savoia perché completino il risorgimento io mi affaccio con ansia che spera sulla selva dei giorni segreti e intravedo fra i densi roveti bella pace il divino tuo fior ma il tuo fior nuova emenda di falli nascer debbe e sul tebro velato e al cuar nero e alle verdi mie valli che profonde mi piangono in sé nel 67 poi celebra un inno al re mentre quando entra a Venezia nel 68 celebra le nozze di Vittorio di Vittorio Emanuele e il il canto è importante perché dà occasione a Felice Cavallotti disgustato dai dai versi di Prati di replicare diciamo per le rime con quest'ode le auguste nozze a Giovanni Prati è importante dicevo perché Cavallotti anni dopo pubblicando le sue opere rende l'onore delle armi al poeta dice che ripubblica scrive che ripubblica la sua propria ode perché dal punto di vista della storia poetica di Cavallotti quell'ode è un ode diciamo seminale dopo la quale viene riconosciuto come poeta e poi scrive anche che pubblicandola sento il desiderio di dire qui come il cuore me l'ha detta una parola di affetto al canuto poeta dal quale la poesia si intitolò lo prevedevi tu forse o buon vecchio cantor dell'amore di Ermengarda e delle glorie di Savoia che il giovane bardo repubblicano che nei tuoi carmi studiava fanciullo le forme di suoni e che dal fitto della battaglia politica ti mandava l'apostrofe iraconda si sarebbe teco un giorno ritrovato per via e ti avrebbe abbracciato con l'amore del discepolo antico tuo alleato di benaltra battaglia non ti è mai passata per mente quella mia prima canzone nelle sere lunghe e geniali là da morteo che era una birreria presso cui si ritrovavano a Roma trascorse insieme quando conversando dei vaneggiamenti quando conversavamo dei vaneggiamenti dell'arte novissima poi prosegue rievocando appunto queste serate letterarie dei due ormai pacificati a te ormai riposante il pie stanco fuori della trista arena dove tante ire e invidie cozzano tante ambizioni spernazzanlali tante pubigie strisciano a te che dimesso sotto i trascini per via assorto nel tuo mondo di larve di suoni chiamandola parca voglia al fato lontana a lei cantando gli antichi non mutati ideali o se fra questi a te piacque anche la bianca croce all'obroga o cantor di Savoia se questa fu la tua fede del primo giorno e dell'ultimo non sarà carme democratico che ti sfrondi dall'oro poiché vanto al poeta è il vivere coerente e morire avvolto tra le pieghe della propria bandiera mi sembrano parole molto belle e che confermano l'intima convinzione di di prati che certo si è fatto cantore pubblico e certo è stato in parte finanziato per questo ma senza senza arricchirsi nel 76 viene entra in senato però quando entra in senato le sue condizioni economiche dicevo non sono molto floride e lo riconosce anche Tommaseo che consiglia al preside di un istituto quattrentino di mandare la lettera a Prati indirizzandola a Roma dove tutti lo conoscono però di metterci anche il francobollo già che non credo che egli cioè Prati nuoti negli agi con tutto che sia quasi un poeta reggio e poteva col suo raro ingegno essere qualcosa di meglio dicevo della linea intima che prosegue anche nelle ultime raccolte in particolare questa è l'ultima Iside che si apre con questi bei versi la mia patria il mio re l'arove pianse pregò la mia madre il dolce canto delle camene l'immortal speranza di narrarne le quete aure dell'iso al concilio dei pii l'alte venture che io non seppi nel mondo ecco il mio sogno di ricchezza e di gloria sempre in questa raccolta patria che si apre con il ricordo del verde tirolo e arriviamo a questa testimonianza piuttosto commovente che riguarda gli ultimi gli ultimi versi che sarebbero stati dettati da un Giovanni Prati molto affaticato nell'82 sembra che abbia avuto un colpo apoplettico poi muore nel maggio dell'84 ma la sua condizione di coscienza è molto è molto affievolita terminerei con le parole che ricordando nella morte Sebastiano Tecchio pronuncia in Senato Sebastiano Tecchio era vicentino e dunque aveva una pertinenza anche geografica con con Prati dice meglio importa di rammentare che in quei lavori il genio di Giovanni Prati si manifesta ardentissimo di patriaffetto e altamente devoto ai reali di Savoia per il senno e per il braccio dei quali fermamente vaticinava che l'Italia sarebbe per giungere a libertà non voglio tacere che a cagione della fede posta del Prati nella casa Sauvauda gli fu apposta più volte la taccia di cortigiano o come altri diceva menestrello di corte ma oggi mai nessuno tra i testimoni della nostra Eliade della nostra epopea nessuno oserebbe negare che Prati è stato propriamente il profeta dell'italica redenzione mai nascerviva gli l'animo un pensiero crudere la servitù delle balze native era partito da quella nel fiore della giovinezza e del continuo aveva aspirato a tornare lassù tornarvi non appena al Trentino fosse tolto agli estranei e alla madre patria restituito come sapete poi Prati effettivamente le sue ceneri verranno traslate ad Asindo nel 1923 con questo ho concluso grazie a Emilio Torchio per la sua relazione che devo dire da storico consente di comprendere come in questa stagione la poesia anche versi che oggi possono apparirci un po' lontani o in qualche caso orrendi abbia avuto un ruolo politico e proprio quelle placchette che citava adesso Torchio più che non i libri sono quelle che vengono diffuse enormemente quindi la popolarità di Prati estraordinari di poeti come lui magari oggi un po' dimenticati o lasciati solo al ricordo delle poesie che la mia generazione ancora mandava a memoria dalle scuole elementari queste erano poesie che tutti conoscevano che tutti ripetevano a memoria e quindi l'impatto è sicuramente stato amplissimo e a me questo da storico interessa interessa capire tromba o trombetta di casa Savoia e del regime Sabaudo in Italia però anche capire come un intellettuale si metta consapevolmente al servizio della politica fino a diventare appunto deputato povero questo ci ricorda che nell'Italia liberali deputati e senatori non prendevano lo stipendio diversamente da quanto avviene oggi grazie dunque a Emilio Tortio passo la alla seconda relazione di Fulvio Conti professore di storia contemporanea all'Università di Firenze Scienze Politiche uno studioso molto noto per i suoi studi sulla Toscana fra otto e novecento soprattutto sul mondo democratico sul movimento democratico nell'Italia liberale sugli ambienti massonici sui luoghi della sociabilità risorgimentale la relazione per titolo nel nome di Dante e di Machiavelli liturgie patriottiche nella Firenze capitale grazie buonasera a tutti grazie anche da parte mia per l'invito a questo bel convegno allora ho modificato leggermente il titolo nella bozza che ho scritto ed ho aggiunto un nome oltre a quello di Dante e Machiavelli che è quello di Massimo D'Azeglio e vorrei partire con una sua famosa citazione l'Italia da circa mezzo secolo si agita si travaglia per divenire un sol popolo e farsi nazione ha riacquistato il suo territorio in gran parte la lotta con lo straniero è portata a buon porto ma non è questa la difficoltà maggiore la maggiore la vera quella che mantiene tutto incerto tutto in forse è la lotta interna i più pericolosi nemici d'Italia non sono gli austriaci sono gli italiani e perché? per la ragione che gli italiani hanno voluto fare un'Italia nuova e loro rimanere gli italiani vecchi di prima con le dappocaggini e le miserie morali che furono abantico il loro retaggio perché pensano a riformare l'Italia e nessuno si accorge che per riuscirvi bisogna prima riformare se stesso e questa forza di volontà questa persuasione è quella preziosa dote che con un solo vocabolo si chiama carattere in corsivo nel testo a sottolinearlo onde per dirla in una parola sola il primo bisogno d'Italia è che si formino italiani dotati da alti e forti caratteri e purtroppo si va ogni giorno più verso il polo opposto purtroppo si è fatta l'Italia ma non si fanno gli italiani questo nella sua quasi interezza è il ragionamento di Massimo D'Azeglio che si poteva leggere nelle pagine introduttive dei suoi ricordi pubblicati postumi nel 1866 dall'editore fiorentino Gaspero Barbera il quale da oltre un decennio come ebbe a osservare Cesare Vasoli nutriva per lo scrittore uomo politico torinese una particolare devota venerazione le riflessioni di D'Azeglio si concludevano con la celebre affermazione sulla necessità una volta unificata e ressa indipendente l'Italia di formare italiani dotati da alti e forti caratteri oggi grazie al test autentico riportato alla luce nel 1949 da Alberto Maria Ghisalberti sappiamo che la versione originale dei miei ricordi non suonava esattamente in questi termini men che meno in quelli perentori e imperativi fatta l'Italia bisogna fare gli italiani con i quali sarebbe stata eternata da Ferdinando Martini nel 1896 operando secondo Simonetta Soldani e Gabriele Turi una forzatura indebita del pensiero di D'Azeglio tuttavia e alla fine questo è ciò che più conta per vera o verosimile che fosse quella frase quella frase fu letta da migliaia di persone nell'introduzione ai ricordi più volte ristampati da Barbera e da altri editori ed entrò fin da subito fra gli stereotipi della cultura nazionale Sembai è interessante notare all'atere che di essa è stata data per lo più un'interpretazione non esattamente coincidente con quella di D'Azeglio lo ha rilevato opportunamente Silvana Patriarca contrariamente a quanto si legge spesso dice Patriarca nelle sue memorie D'Azeglio non poneva il problema di fare gli italiani nel senso di renderli culturalmente omogenei in modo che potessero riconoscere la loro comune italianità la vera questione era invece riformarne la moralità e il comportamento come cittadini rigenerarli e renderli degni membri della nuova patria in altre parole le riflessioni di D'Azeglio si inserivano a pieno titolo nell'annoso dibattito sul carattere nazionale che durante l'età romantica e risorgimentale aveva guadagnato uno spazio centrale nella battaglia per la definizione della nazione ma esse finirono con l'essere interpretate come è stato ben evidenziato dalla storiografia degli ultimi tre decenni proprio come impegno assunto dalle classi dirigenti dell'Italia liberale in modo più o meno consapevole a costruire una comunità nazionale più omogenea e coesa che si riconoscesse in un universo condiviso di valori e simboli ebbene quale fu il contributo che a questa faticosa opera di nation building venne dato da Firenze negli anni in cui essa fu capitale del regno è possibile individuare qualche iniziativa o evento di quel breve periodo che sia riconducibile al lungo percorso del fare gli italiani provo ad offrire qualche risposta a questi interrogativi occorre dire anzitutto che Firenze visse il trasferimento della capitale come una dolorosa necessità a cui non poté opporsi ben consapevole che si sarebbe trattato di un'esperienza transitoria e che i danni sarebbero stati probabilmente maggiori dei benefici Bettino Ricasoli fin dai giorni della firma della convenzione con la Francia nel settembre 1864 non esitò a parlare di quella che stava per battersi sulla città come di una grande sventura e addirittura lui cattolico arrivò da auspicare la morte di Papa Pio IX nel convincimento che ciò avrebbe portato alla rapida occupazione di Roma da parte dell'esercito italiano in una famosa lettera a Celestino Bianchi paragonò la capitale provvisoria a una tazza di veleno che i fiorentini sarebbero stati costretti a ingurgitare in effetti quei sei anni dal 1865 al 1871 cambiarono l'assetto urbanistico della città che cominciò a espandersi oltre l'antica cinta muraria abbattuta e sostituita da grandiosi boulevard alberati in stile parigino e vide sorgere nuovi quartieri anche a ridosso del centro storico le trasformazioni in periodo capitale furono percepite da una certa parte del mondo intellettuale come irrimediabile e distruzione del vecchio volto medievale della città come danno inferto a un patrimonio artistico identitario che era stato sacrificato alle esigenze effimere della politica e della modernità tra quanti deprecarono la ristrutturazione urbanistica di Firenze denunciandone i rischi vi fu proprio Massimo D'Azeglio testimone della sua amarezza e delle sue preoccupazioni fu Ferdinando Martini che ne servò questo ricordo e cito Martini vidi l'ultima volta l'Azeglio nel 1865 a Firenze in via Ricasoli dove gli andava a visitare un amico era di cattivo umore e partiva il giorno di poi la nuova capitale stava per accogliere il governo e le camere dappertutto ferveva il lavoro di preparazione e di adattamento me ne vado disse D'Azeglio a Palazzo Vecchio hanno distrutto a Freschi credo di Cecchino Salviati a Palazzo Riccardi mettono le Perseane sciupano Firenze e io non voglio vedere un curioso destino volle che il 30 gennaio 1866 a soli 15 giorni dalla sua morte quella Firenze sciupata che tanto lo intristiva decise di intitolargli proprio la grande piazza giardino intorno a cui si sviluppò il nuovo quartiere della mattonaia l'intervento urbanistico più significativo fra quelli combiuti in quegli anni all'interno della vecchia scinta muraria in via di demolizione l'autore del Fieramosca di Niccolò dell'Api da tutti percepito come l'ispiratore dell'opera di Nation Building che incombeva sulle classi dirigenti liberali si trovò così a essere utilizzato come una sorta di apripista di questo progetto di pedagogia patriottica che ebbe nella risemantizzazione dello spazio urbano uno dei suoi strumenti privilegiati gli interventi sull'odonomastica delle città insieme alla statuaria di matrice civile e politica furono una delle tessere più importanti di questo mosaico la decisione di intitolare ad Azzeglio una nuova piazza fu assunta dal consiglio comunale su proposta del sindaco il conte Luigi Guglielmo de Cambredigny accantonando una prima ipotesi che prevedeva di dedicare il luogo alla memoria di Dante Alighieri sempre nel 1866 il 24 ottobre la giunta comunale volle celebrare la guerra vittoriosa contro l'Austria e la liberazione del Veneto intitolando una strada a Venezia a ridosso dei nuovi viali un paio di anni dopo 1868 quando il quartiere intorno a piazza d'Azzeglio era ormai in fase avanzata di edificazione e si rese necessario dare un nome alle numerose strade che lo intersecavano il municipio scelse tutte intitolazioni dedicate a letterati o patrioti che avevano contribuito con le loro opere a plasmare il canone risorgimentale Luigi Carlo Farini Pietro Giordani Giacomo Leopardi Giuseppe Giusti Giovan Battista Niccolini Silvio Pellico Vittorio Alfieri e Alessandro Manzoni l'ultimo Manzoni al pari di Garibaldi e di Ricasoli ebbe l'onore di avere a Firenze una via a lui intitolata mentre era ancora vivente a Garibaldi era stata intitolata nel 1859 prima che facesse l'impresa dei mille tanto per dire un particolare tributo alla memoria di Massimo D'Azzeglio e in certa misura un diretto riconoscimento della sua primogenitura dell'idea di fare gli italiani venne da Edmondo D'Amicis in una novella pubblicata nel 1872 D'Amicis così descriveva proprio quella piazza fiorentina intitolata D'Azzeglio ecco cito D'Amicis era bello a vedersi il giardino della piazza D'Azzeglio la sera ad una giornata di primavera due anni fa quando Firenze era ancora capitale vi convenivano centinaia di fanciulli molti di famiglie fiorentine la più parte di famiglie di impiegati di ogni provincia era il ritrovo delle italiane e degli italiani più piccini che avevano condotti in quella città il Parlamento i ministeri e le altre istituzioni dello Stato il fiore dell'innocenza e della gaiezza della capitale ad ogni passo si udivano accenti diversi che ritornando alla memoria alle diverse province facevano passare dinanzi agli occhi una sequela rapidissima di visioni il Canal Grande il Vesuvio San Pietro Superga il Giardino Massimo d'Azzeglio faceva esclamare quasi con un senso nuovo di meraviglia e di piacere oh qui si vede che l'Italia è fatta davvero come ci rivela questa vivida testimonianza di Diamicis in quella piazza Giardino che portava il suo nome d'Azzeglio fungeva quasi dal nome tutelare di un percorso di nazionalizzazione delle masse italiane che partiva non dalle istituzioni a ciò maggiormente preposte come la scuola o l'esercito ma dalla mescolanza di fanciulli molti nati prima ancora che l'Italia nascesse accomunati dalla quotidiana condivisione di uno spazio ludico della città dove il destino li aveva fatti convergere figli di parlamentari burocrati e funzionari del nuovo Stato anche attraverso questa modalità sulla quale forse in sede storiografica non si è fin qui posta la dovuta attenzione Firenze capitale con il primo mescolamento dell'elite politico-burocratica del paese e delle rispettive famiglie socializzò l'idea di italianità un gruppo relativamente vasto ed eterogeneo di persone ma gli interventi sull'odonomastica durante gli anni della capitale non si limitarono a quelli del quartiere della mattonaia l'apertura dei nuovi grandi boulevard sui luoghi dove sorgeva la vecchia cinta muraria consentì infatti all'amministrazione cittadina di rendere un importante omaggio ai membri della famiglia reale si cominciò il 24 aprile 1868 con l'intitolazione alla principessa Margherita due giorni dopo il suo matrimonio a Torino con l'erede al trono il principe Urberto del viale compreso fra piazza Cavour e il viale Filippo Strozzi si completò poi l'opera nel marzo 1869 intitolando gli altri viali al principe Eugenio al principe Umberto al principe Amedeo a Carlo Alberto e al duca di Genova naturalmente al primo tratto di viale quello che collegava piazza Vittorio Emanuele con porta al prato fu dato il nome del re Vittorio Emanuele a cui fu intitolata nel 1870 anche la lunga strada che andava dal Ponte Rosso fino al confine comunale con Sesto Fiorentino con la conseguenza che nel 1870 a Firenze il re Vittorio Emanuele II al re Vittorio Emanuele II risultavano intestate contemporaneamente una via una piazza un corso e un viale sempre nel 1870 prima del trasferimento della capitale a Roma si ebbe l'attribuzione del titolo di piazza dell'indipendenza alla piazza che fino a quel momento aveva preso nome da Maria Antonia di Borbone seconda moglie di Leopoldo II era stato in questa piazza del quartiere di Barbano destinata ad assumere un ruolo centrale nelle liturgie patriottiche della Firenze Umbertina che il 27 aprile 1859 si era radunata una moltitudine di fiorentini per manifestare la volontà di cacciare la dinastia lonenese e aderire al progetto di unificazione nazionale sotto le insegne Sabaude la famiglia reale dunque appose il suo sigillo sui nomi delle principali arterie della nuova capitale gli organi di governo locale mostrarono conciò il loro deferente omaggio alla dinastia e al tempo stesso affidarono a quelle targhe di pietra con i nomi dei regnanti una chiara funzione di pedagogia politica la missione silenziosa e quotidiana di educare al culto dello stato monarchico e al rispetto dei suoi maggiori rappresentanti resta da chiedersi se con il trasferimento a Firenze la corte sradicata da Torino dopo oltre tre secoli subì per così dire un processo di spiemontesizzazione se riuscì insomma a farsi definitivamente italiana o comunque a contribuire con i suoi riti i simboli il fasto delle cerimonie all'opera di nation building in altri paesi come è ben noto nel diciannovesimo secolo e fino all'inizio del ventesimo la monarchia fu un attore decisivo nella costruzione delle identità nazionali il caso del Regno Unito negli anni della regina Vittoria ed Edoardo VII è quello più conosciuto ma non fu il solo in Italia come sappiamo a una profonda e autentica popolarizzazione della monarchia non si arrivò mai di certo questo non accadde nei primi anni dopo l'unità e si dovette attendere l'ondata di emozione provocata dalla scomparsa di Vittorio Emanuele II il 9 gennaio 1878 e i successivi pellegrinaggi alla sua tomba per assistere alle prime vere manifestazioni di popolo a sostegno dell'istituzione monarchica e soprattutto perché questa surgesse a simbolo condiviso dell'idea di patria non giovò all'immagine popolare del re la mancanza di quella mondanità che caratterizzava la vita delle maggiori corte europee da questo punto di vista l'assenza di una regina e delle principesse reali rappresentò un limite evidente infatti nelle poche feste date a corte la presenza femminile era scarsa e vi prevaleva l'elemento virile e militaresco non fu un caso se il primo ballo di corte a Firenze capitale fu dato soltanto il 25 novembre 1865 non dal sovrano a Palazzo Pitti ma dal municipio a Palazzo Borghese in onore del re Luigi di Portogallo e della regina Maria Pia di Savoia alla regia di Palazzo Pitti Vittorio Emanuele II preferiva la tenuta di San Rossore dove amava soggiornare per lunghi periodi dedicandosi alle battute di caccia di conseguenza l'unico grande momento di mondanità regale fu vissuto da Firenze nel maggio 1868 in occasione delle feste nuziali dei principi di Piemonte Umberto e Margherita che si protrassero per alcuni giorni ma la vera grande festa che restò negli annali di Firenze Capitale non ebbe a che vedere con la Corte anche se il re presenziò agli eventi principali né fu direttamente patrocinata dalle istituzioni dello Stato monarchico il governo e il Parlamento fu la festa che andò in scena per tre giorni dal 14 al 16 maggio 1865 per celebrare il sesto centenario della d'ascita di Dante si trattò di un'iniziativa promossa dal basso da un comitato composto dai più benomi dell'elite politica e culturale e locale che raccolse poi adesioni e contributi in tutti i maggiori centri urbani della penisola l'iniziativa fu quindi fatta propria dal Comune di Firenze che per la sua realizzazione stanziò la bella cifra di 350 mila lire nulla di simile a quella celebrazione ha scritto Carlo Dionisotti si era mai visto prima in Italia né si vide poi in effetti Firenze fu soltanto l'epicentro di un insieme di festeggiamenti che investirono tutta l'Italia consacrando definitivamente la figura di Dante a simbolo principe dell'identità nazionale su queste feste ferentine del 1865 molto si è scritto e io stesso ne ho parlato in dettaglio in un mio libro sul mito e l'uso pubblico di Dante a cui rimando per maggiori approfondimenti qui mi limito perciò a evidenziare alcuni aspetti di quell'evento che mi paiono più significativi per delineare il contributo dato da Firenze capitale alla costruzione di una religione della patria contributo che proprio nell'affermazione del culto di Dante come emblema e profeta della nazione sancito dalle cerimonie del 1865 trovò la sua espressione più nitida e il suo lascito più duraturo innanzitutto gli organizzatori ebbero ben chiara la volontà di dare un carattere unitario e nazionale alla commemorazione rifugendo da ogni rivendicazione di sapore municipalistico così quando vi fu chi propose di allungare la festa di qualche giorno e di associare alla commemorazione di Dante quella di altre figure memorabili della tradizione culturale e politica di Firenze Michele Di Lando Giano della Bella Francesco Ferrucci eccetera figure che intendevano evocare insieme alla grandezza storica della città la sua vocazione all'autonomia e la sua propensione per la forma di governo repubblicana vi fu subito chi nel comitato promotore bloccò sul nascere questa idea pericolosamente avversiva per esempio ricordando come fece il senatore Enrico Poggi fratello di Giuseppe l'architetto artefice della ristrutturazione urbanistica di Firenze capitale ricordando che Dante aveva cito voluto sempre incarnare i due concetti dell'unità nazionale e della monarchia italiana predicando rispetto a Roma la separazione del temporale dallo spirituale la dimensione nazionale delle cerimonie del maggio 1865 fu dimostrata plasticamente dalla presenza a Firenze delle delegazioni di centinaia di comuni province enti associazioni che confluirono nella capitale da ogni parte d'Italia con il corredo altamente coreografico dei loro standardi e delle loro bandiere un'immagine che a qualcuno parve assumere le sembianze di una riedizione simbolica dei plebisciti del 1860 tale fu il significato che Vincenzo Ricasoli fratello di Bettino attribuì al corale scenografico tributo che pur reso congiuntamente al re al sommo poeta il giorno dell'inaugurazione del monumento di fronte alla Basilica di Santa Croce evento clou dell'intero programma di festeggiamenti nelle feste fiorentine e questo è un altro aspetto che merita di essere evidenziato solennità e ufficialità non andarono disgiunte da una spiccata vocazione popolare che si manifestò attraverso l'allestimento di spettacoli balli giochi cortei che videro la partecipazione di un gran numero di persone appartenenti anche ai gruppi sociali medio-bassi il messaggio unitario e patriottico associato al nome di Dante raggiunse dunque fasce trasversali della popolazione e non restò circoscritto agli ambienti più acculturati vi è testimonianza anche della produzione di gadget spilli confetti eccetera che contribuirono alla popolarizzazione del poeta come simbolo di italianità tutte le cerimonie le cerimonie inoltre ebbero una spiccata connotazione irredentista servirono cioè per rivendicare l'annessione all'Italia di quei territori che si trovavano ancora sotto dominio di uno stato straniero Venezia in primis ma anche Trento e Trieste oppure come Roma giacevano sotto il gioco dello stato pontificio e qui vengo all'ultimo punto sul quale ritengo opportuno richiamare l'attenzione delle feste del 65 il carattere laico e antitemporalista che ebbero tutte le celebrazioni del 1865 e non soltanto quelle che si svolsero a Firenze lo colse meglio e più di altri il patriota e letterato Luigi Settembrini noto per la sua appartenenza alla massoneria e per le posizioni anticlericali che in uno dei resoconti delle feste fiorentine da lui inviate a un giornale di Napoli osservò e cito se questa festa fosse stata fatta due secoli ed anche un secolo fa non ci sarebbe mancato il beni creator spiritus e la messa e la benedizione il prete insomma la festa avrebbe avuto il suo lato religioso la processione sarebbe stata preceduta dalla croce e il nome di Dante sarebbe stato dopo il nome del Cristo invece oggi la festa è tutta laica è tutta civile il prete non vi è comparso la rivendicazione del carattere laico dello Stato talora con tinte di acceso anticlericalismo fu uno degli elementi distintivi anche delle celebrazioni del quarto centenario della nascita di Machiavelli che si svolsero a Firenze nella primavera del 1869 le commemorazioni si concentrarono nella sola giornata del 3 maggio e furono dunque assai meno articolate e pompose di quelle dedicate quattro anni prima a Dante lo fece notare Francesco De Santis che delle prime era stato un diretto testimone in una delle sue conferenze su Machiavelli che tenne a Napoli fra la fine di maggio e l'inizio di giugno del 1869 scrisse De Santis non è guari celebrava se a Firenze il centenario della nascita di Niccolò Machiavelli ma questa solennità non è stata appunto popolare non è stata avvertita dall'universale non ha lasciato vestigia appunto perché non si è saputo uscire dall'arcadia e dall'accademia i soliti discorsi le solite poesie e null'altro che questo giudizio di De Santis anche se coglieva il dato essenziale delle cerimonie del 1869 vale a dire lo scarso coinvolgimento popolare appare un poco riduttivo l'impatto simbolico delle feste per Machiavelli fu infatti elevato e rappresentò il degno coronamento del percorso di pedagogia patriottica che era stato avviato nel 65 con quelle per Dante anche in questo caso l'iniziativa partì dal basso e a proporla fu un professore di storia di un liceo di Senigallia e Fisio Contini che in un libro pubblicato nel marzo 1868 Machiavelli e il suo centenario rivolse un caldo appello al municipio di Firenze affinché organizzasse una festa in onore del suo illustre cittadino nella relazione nella relazione poi stilata da Contini all'indomani delle cerimonie Contini che ricoprì la carica di segretario della commissione promotrice rivendicò con orgoglio il carattere spontaneo e la matrice in larga parte privata che quelle feste avevano avuto scrisse gli onori resi a Niccolò Machiavelli furono degni della libera Italia e per il modo con cui furono ordinati e promossi mostrarono che non è necessaria in ogni cosa come troppo si crede fra noi l'iniziativa e l'autorità del governo all'operoso cittadino che dopo aver governato i liberi ordini della sua città natale di suo moto propugnò l'indipendenza della grande patria italiana conveniva che si rendesse onore spontaneo dai cittadini di ogni parte d'Italia e che da lui si prendesse principio a fare per iniziativa privata le oneste opere di cui la libertà è madre e maestra in chiusura della relazione Contini tornò a sottolineare questi concetti aggiungendovi la considerazione già emersa in occasione del centenario dantesco che la larga e spontanea partecipazione di municipi e istituzioni di molte città italiane potesse essere interpretata di fatto come un voto che rinnovava i plebisciti del 1860 e del 1866 come nuova consacrazione popolare dell'unità nazionale se plebiscito è voto di tutti osservava Contini nessuno porrà dubbio che il sindaco di Firenze non abbia bene interpretato la dimostrazione dell'Italia che con la festa di Machiavelli asseverò di nuovo e spontaneamente la sua unità di nazione spontaneamente scritto in carattere in stampatello nel testo la commissione promotrice del centenario preseduta da Terenzio Mamiani fu composta da Michele Amari Emanuele Celesia Michele Coppino Mauro Macchi Angelo Messedaglia Antonio Ranieri e Atto Vannucci ottenuto il sostegno finanziario del Comune di Firenze che è l'argilla somma di 10.000 lire metà delle quali destinate a premiare un saggio biografico su Machiavelli rivolse un appello a tutti i comuni le università gli istituti e l'Accademia d'Italia perché fossero rappresentate alle cerimonie del centenario oltre 150 furono i municipi e le istituzioni culturali che risposero positivamente presenziando alla festa con i propri delegati o comunque inviando calorose lettere di adesione tutte le missive ponevano in vario modo l'accento sull'immagine di Machiavelli che si era consolidata durante l'età romantica e risorgimentale quella del precursore dei valori liberali e patriottici e ottocenteschi colui che aveva aperto la via ai concetti di autonomia individuale di patria di nazionalità libertà e uguaglianza virilità lavoro e serietà un'immagine che Francesco De Santis avrebbe fissato in maniera definitiva nel secondo volume della sua storia della letteratura italiana io avrei una bella citazione ma so che parlerà di questo Mario Sneghi e quindi anche per accorciare un po' i tempi l'assalto nei messaggi inviati da vari comuni italiani così come nei discorsi pronunciati a Firenze è questa immagine di Machiavelli emersa in modo chiaro il municipio di Cortona applaudì alla festa destinata ad onorare la memoria dell'antico glorioso propugnatore dell'indipendenza italiana Iglesias salutò in Machiavelli il propugnatore dell'unità italiana Incisa Valdarno il preconizzatore dell'Italia unita indipendente Rovigo il grande divinatore Lucca con toni appena più sfumati l'uomo che forse primo incarnò nell'alta sua mente il concetto dell'unità dell'indipendenza d'Italia il comune di Trapani si unì con entusiasmo ai festeggiamenti del grande politico fiorentino che preunziò a nuovi tempi la redenzione dell'Italia e la sua liberazione dai barbari ponendone fondamento nelle virtù di principe nelle buone leggi e nelle buone armi ed indicandone il maggiore ostacolo nella potestà temporale dei papi cui la civiltà e il senno progredito dei popoli sapranno vincere le citazioni tratte dai messaggi inviati da comuni istituzioni tutte di analoga intonazione potrebbero proseguire a lungo mi limito per concludere a riportare quella dell'Istituto di Belle Arti delle Marche con sede a Urbino che salutava in Mattiavelli colui il quale abbracciando la idea dantesca dell'unità nazionale vero Galileo della politica si tiene insieme tutto la perfezionava incarnandola in un principe italico che dopo secoli di schiavitù tenebrosa Dio concedetta la penisola nostra in Vittorio Emanuele II con l'omaggio al regalantuomo il principe italico che era riuscito finalmente a dare concreta realizzazione all'utopia macchiavellana macchiavelliana il cerchio poteva dirsi concluso l'immagine di Mattiavelli che il centenario fiorentino consegnò al discorso pubblico della nazione fu quella di colui che aveva profetizzato l'unità all'Italia sotto la guida di un principe illuminato che aveva individuato nella Chiesa Cattolica la causa del declino morale degli italiani e della dominazione straniera ma anche di chi aveva lucidamente teorizzato la necessità di un recupero della virilità e della capacità guerriera del popolo che passava necessariamente attraverso la formazione di un esercito di cittadini nel messaggio di ringraziamento inviato ai municipi d'Italia da Ubaldino Peruzzi nella sua veste di facente funzioni di sindaco di Firenze questi concetti vennero evidenziati in modo esplicito nelle fauste onoranze dedicate a Mattiavelli non soltanto l'unità nazionale ebbe nuova e concorde sanzione ma si affermò l'alta sapienza del segretario fiorentino che previde sentì e volle quello di cui l'Italia è oggi fortunata posseditrice l'unità l'indipendenza le proprie armi in modo ancora più netto Peruzzi espresse tale idea nel primo momento ufficiale delle celebrazioni del 3 maggio quello che ebbe luogo nella basilica di Santa Croce con la visita delle delegazioni alla tomba di Mattiavelli il richiamo a Mattiavelli come preconizzatori di un'indipendenza che poteva essere riconquistata solo attraverso la costruzione di una valente autonoma armata espressione della forza virile della nazione fu altrettanto esplicito nel secondo atto delle cerimonie che andò in scena sotto la sua casa natale per l'ironia in via Guicciardini a pochi metri di distanza dalla casa di Francesco Guicciardini sulla facciata venne infatti scoperta una lapide in marmo che recava la seguente iscrizione a Niccolò Machiavelli dell'unità nazionale precorritore audace indovino e darmi proprie non avventizie primo istitutore maestro l'Italia una e armata pose il 3 maggio 1869 quarto di lui centenari della cerimonia fu redatto anche un verbale ufficiale repertoriato da un notaio che venne firmato seduta a stante dai presenti fra i quali oltre ai membri della commissione promotrice di cui ho già letto i nomi a numerosi delegati provenienti da varie città figuravano alcuni importanti esponenti della vita politica e culturale italiana Ruggero Bonghi Aleardo Aleardi Pasquale Villari Achille Gennarelli Fedele Lamperti Coesidoro del Lungo Paolo Mantegazza Vittorio Embriani Sansone d'Ancona Luigi e Piero Torrigiani il governo vi fu rappresentato solo dal prefetto Massimo Cordero di Montezemolo mentre i pochi deputati e senatori intervennero a titolo personale le cerimonie della mattina si chiusero a mezzogiorno con una mostra di manoscritti sotto il loggiato sotto il portico degli uffizi di manoscritti autografi ed edizioni di pregio di Machiavelli di proprietà dell'archivio di stato della biblioteca nazionale e qui dando un po' ragione a De Santis che c'era una certa partecipazione di popolo sotto quel porticato degli uffizi c'era stato l'atto conclusivo delle feste dantesche del 1865 la malamovida vorrebbe dire una festa balli di popolo che si era protratta fino a tutta la notte da questo punto di vista l'evento più partecipato fu quello del primo pomeriggio che si svolse in un luogo privato ancorché altamente evocativo gli orti orricellari i giardini del palazzo orricellai dove all'inizio del XVI secolo si adunavano artisti letterati e politici come quelli dell'Accademia Neoplatonica e dove Machiavelli lesse per la prima volta i suoi discorsi sulla guerra dal 1861 i giardini e la villa erano divenuti di proprietà della principessa russa Olga Orlov che aveva incaricato per l'appunto l'architetto Giuseppe Poggi di Cudarne l'ammodernamento la sala dove si svolse l'adunanza riferisce ancora a Fisio Contini era ornata dalle bandiere di 64 municipi una scena che ricordò l'analogo tributo recato a Dante in occasione del centenario del 65 e cito intorno al busto di Machiavelli erano le bandiere di Genova Milano Napoli Palermo Torino Venezia e della stampa italiana la tribuna della commissione era sormontata dalle bandiere di Firenze e Roma e in mezzo a esse l'iscrizione qui ove educò la gioventù negli accorgimenti di governo e di guerra onorate l'altissimo statista l'orazione ufficiale fu tenuta adatto Vannucci il quale come è stato opportunamente sottolineato era uno dei migliori che la piazza letteraria allora offrisse in materia di canonizzazione di grandi uomini in chiave risorgimentale fu lui sacerdote che da lungo tempo aveva gettato l'abito talare a porre l'accento in particolare sulla preziosa eredità che il pensiero di Machiavelli lasciava all'Italia laica e democratica i passi del suo discorso dedicate alla profonda avversione di Machiavelli per la chiesa cattolica e per le nefaste conseguenze che la presenza dello stato pontificio aveva avuto nella storia d'Italia rivelano il viscerale anticlericalismo di cui Vannucci era portavoce e cito da Vannucci per lui per Machiavelli il nemico più grande d'Italia era il papa e prima di ogni altro ne scrisse particolarmente e splendidamente l'atto d'accusa il papa con i suoi avari prelati e sua triste corte interpretando la religione non secondo la virtù ma secondo l'ozio per farla strumento di regno ha disarmato e impoltronito i popoli ne ha uccise la libertà gli ha fatti vili e servi di scellerati oppressori il presente e il passato gli dicono che il papa è causa perpetua della rovina d'Italia perché per amore alla sua dominazione temporale l'ha tenuta sempre divisa impeditole di essere una nazione unita e forte come la Francia e la Spagna e chiamato continuamente gli stranieri a nutrire le guerre intestine a contrastare gli ingrandimenti italiani a fare strazio disonesto di noi e delle cose nostre tutti videro finisce vannucci all'età nostra ripetersi gli antichi delitti e i soldati stranieri calpestare e insanguinare le terre d'Italia ai cenni del papa benedicente e carnefici e imprecante agli italiani trucidati o impiccati e oggi stesso lo vediamo congiurare contro di noi e fare ogni sforzo per uccidere la nuova vita che a noi costò tanti secoli di patimenti e di sangue siamo il 3 maggio 1869 quindi poco oltre sono in chiusura vannucci si soffermò per l'ennesima volta su uno dei temi che erano stati al centro della commemorazione del centenario sull'idea di Machiavelli che più di altre era entrata nel discorso pubblico dell'Italia risorgimentale la necessità di una forte minizia nazionale della cui mancanza egli faceva colpa prima di tutto alle mene temporalistiche della chiesa cattolica e cito ancora vannucci tra le accuse del Machiavelli vi è anche che i preti non usi a conoscere a trattare armi per darsi riputazione nel temporale presero prima di ogni altro a soldar forestieri dettero la patria e l'onore e la roba in custodia delle armi mercenarie che poi accolte da tutti messero a ruba e a soccuadro l'Italia la salute la libertà l'indipendenza stanno nel bene ordinare armi proprie nel fare che l'esercizio di esse sia un'istituzione dello Stato non un mestiere di una classe di uomini traente da essi la vita e quindi interessati a turbare la pace a perpetuare la guerra l'ordine buono e utile a tutti sta nell'aver cittadini che esercitati nello studio delle armi in tempo di pace le sappiano usare a difesa comune quando la necessità lo richiede e poi senza voler guadagno da esse tornino ognuno a loro particolari faccende con il che atto vannucci facendo riaffiorare le sue antiche passioni repubblicane mostrava di schierarsi a favore del concetto di nazione armata che era uno dei temi al centro della battaglia politica delle correnti democratiche repubblicane particolarmente attive e vivace negli anni di Firenze capitale in conclusione uno dei retaggi che Firenze capitale lasciò all'Italia liberale fu dunque l'indicazione che il processo di nation building poteva e doveva trovare un solido ancoraggio nella difesa del carattere laico dello Stato a ben vedere uno degli elementi distintivi dei due centenari celebrati nel 1865 nel 1869 quello di Dante e quello di Mattiavelli è da rintrecciare proprio negli accenti anticlericali antitemporalisti che caratterizzarono entrambi questo si spiega ovviamente come riflesso della necessità di tener viva nell'opinione pubblica la tensione ideale politica per la liberazione di Roma ma appare anche come lo specchio verrebbe da dire in termini gramsciani dell'egemonia culturale che ricorrenti razionaliste di varia matrice esercitavano nei scenacoli intellettuali della capitale provvisoria di questa egemonia venne in diretta conferma anche dal secondo congresso medico internazionale che si svolse a Firenze nel settembre 1869 dopo quello di Parigi del 1867 quel congresso si segnalò fra le altre cose per essere il primo che approvò all'unanimità un ordine del giorno con il quale si chiedeva che la cremazione fosse legalizzata e sostituisse il sistema vigente dell'inumazione per i sostenitori della cremazione che erano assai diffusi nei circoli razionalisti anticlericali e massonici quel voto era destinato ad avere una portata storica un'autorevolissima assise medica internazionale dichiarava ufficialmente che dal punto di vista igienico-sanitario il metodo dell'incenerimento dei cadaveri era da preferirsi a quello dell'inumazione e inoltrava un pressante invito ad adoperarsi affinché questo principio ottenesse ovunque sanzione legale ma il congresso medico dal mio punto di vista del 1869 segnalò anche un altro aspetto mentre si avviava a conclusione il periodo in cui era stata capitale del regno d'Italia un periodo durante il quale aveva contribuito a plasmare la nuova identità della nazione Firenze cominciava a ritagliarsi un'altra prospettiva quella di città a forte vocazione internazionale sede di grandi congressi internazionali come già quello di statistica che aveva ospitato nel 1867 o come quello celebre degli orientalisti che avrebbe ospitato nel accolto nel 1878 popolata da una folta comunità di forestieri che l'avevano eletta al luogo prelidetto di residenza Firenze si proiettava verso una nuova dimensione quella di Atene d'Italia città delle arti e della cultura aperta e cosmopolita meta prediletta della nascente industria turistica grazie grazie a Fulvio Conti per la sua ricca relazione che ci ha riportato sia al tema dell'odonomastica e della riscrittura delle città pensiamo proprio come in questa stagione nasca tutta quella serie di gran parte di monumenti e dei nomi delle vie che noi oggi in tutte le città d'Italia conosciamo vengono ridenominati fra gli anni sessanta e gli anni ottanta forse i primi anni novanta che non oltre quindi quale traccia abbia ancora lasciato questa sorta di grande libro di storia di taglio di storia dell'esorgimento squadernato a cielo aperto quindi anche il problema della riscrittura dell'urbanistica di una città che è destinata a diventare capitale ai nomi che citavi tu adesso Dante Machiavelli magari se ne potrebbe aggiungere uno ma forse ne parleremo nella sessione di domani quello di Savonarola che si incontra come riformatore negli ambienti evangelici quando Firenze torna a essere un centro anche propulsivo di una nuova religiosità cristiana ma non cattolica Lutero è tedesco sa troppo di tedesco Savonarola è riformatore italiano anche qui c'è un uso politico di Savonarola che si aggiunge ma lo vedremo meglio domani a questo punto sono le cinque meno un quarto abbiamo una pausa caffè direi fino alle cinque e non oltre ci rivediamo qua per la seconda parte del pomeriggio eccoci qui se riprendiamo posto tutti ricominciamo con la seconda solo un po' d'acqua anche per far girare se qualcuno vuol versi la seconda parte del nostro pomeriggio con due relazioni la prima affidata a Mirko Saltori dell'Accademia degli Agiati che è conservatore del Museo Storico del Trentino studioso di storia del Risorgimento Cesare Battisti della Grande Guerra e anche storia delle musiche in questi contesti oggi dedica la sua relazione a una di quelle figure di Garibaldini di patrioti quasi dimenticati Ergisto Bezzi un Trentino che sarà fra i mille e a un certo punto sparirà dalla scena politica ma di cui immagino ci racconterà le vicende Ergisto Bezzi Garibaldino e Repubblicano per sempre grazie grazie a voi presenti grazie a Fabrizio che ha dato il titolo che io non riuscivo a trovare quindi un bel titolo è suo sì sono un po' spaventato perché passiamo da grandi affreschi e da grandi nomi a un nome minuto minore ma non minimo insomma ecco se anche Mario Esmenghi si lamentava se ben ricordo forse nel Garibaldi fu ferito di non vedere più il ritratto di Ergisto Bezzi al museo del risorgimento non c'è più il ritratto non c'è più il museo del risorgimento io in qualche modo lavoro nella fondazione erede quindi faccio un po' le veci di quel ritratto oggi ecco è una figura un po' scomparsa dalla storiografia trentina come altre figure di quel genere perché la storiografia trentina che per anni aveva posto queste figure al centro della sua narrazione dell'ottocento trentino sia da tempo volta a nord giustamente secondo me ma dimenticando quelle figure quindi si è costruita una storia che non è più capace non è più in grado di tenere dentro quelle vicende così eccentriche se noi andiamo a vedere anche diverse delle ultime delle ultime opere storiografiche vaste sul trentino penso che Bezzi in alcune non sia nemmeno citato ad esempio per quanto riguarda la storia del trentino dell'ottocento c'è insomma una difficoltà a inquadrare questi irredentisti come Bezzi a parte che da noi il termine irredentista è usato anche un pochino a sproposito Bezzi irredentista lo fu sul serio insomma è uno è uno dei pochi poi abbiamo i liberali abbiamo i personaggi liberal nazionali come Giovanni a Prato a cui è stata dedicata nello scorso convegno una relazione insomma di cui ci parlerà Fabrizio domani Bezzi è un vero rivoluzionario un sovversivo ecco anche questo è raro per un trentino il maggiore forse dell'ottocento prima di lui sì prima di lui potremmo ricordare Gioacchino Prati ecco che non è parente del Giovanni e che è un rivoluzionario di tutt'altro momento storico in qualche modo era il secondo tra virgolette di Filippo Buonarroti nell'esilio nell'esilio francese poi si converte il san simonismo in Inghilterra per arrivare purtroppo rosminiano ma insomma è una storia interessante che qua non tocco e che hanno toccato in pochissimi ma nomi comunque gloriosi da Cantimoria a Saita all'ormai dimenticato Renato Soriga ecco per ragionare su Bezzi va ovviamente tenuto presente il contesto del trentino austriaco perché da lì vedremo che prende forma il nostro Ergisto o Egisto si chiama Ergisto ma lo chiamavano effettivamente anche Egisto anche se sarà per gran parte della sua vita estraneo a quel contesto e anche su questo tornerò ecco l'Austria prigione dei popoli quell'Austria forcaiola che di cui parlava anche ieri Malfer così la definiva Mazzini così la definirà Battisti nel 14 era un falso in un certo senso questa questa è sappiamo che è propaganda perlomeno se noi la vediamo su tutto il secolo certo l'Austria non è sempre uguale quella del 1854 non è quella del 1895 è quella che conosce il Lombardo Veneto e nel Lombardo Veneto il Veneto mi arriva a dire l'Austria feroce dei primi anni 50 non è quella che conosce la gran parte insomma della popolazione trentina che indubbiamente aveva col mondo austriaco con suetudini particolarismi rapporti economici parentele perfino che datavano da secoli insomma ecco è un discorso ampio che prima o dopo sarebbe anche bello impostare insomma quanto quest'immagine dell'Austria sia stata produttiva per il risorgimento italiano e poi quanto sia stata produttiva per il mito del risorgimento italiano e solo sia stata più per l'uno più per l'altro insomma bisogna anche domandarsi da dove viene a uno come Bezzi questo questo odio anti-austriaco insomma però siamo in anni in cui secondo me soprattutto la città di Trento so che molti la vedono un po' come il covo vescovile del Trentino ma dalla città di Trento si irradiava un malcontento anti-austriaco sempre più forte più che a Roveretton quando arrivano quando arriva Napoleone i Roveretani lo combattono ardentemente mentre a Trento gli consegnano come si dice in Trentino la chiave del volt le chiavi del magazzino e la città di Trento che poi avrà anche i suoi piccoli moti nel 1848 che lo ricordo sarà anche l'unica che esprimerà al Parlamento viennese per due volte consecutivi un deputato socialista la città di Trento matura proprio nei primissimi decenni dell'ottocento una sempre più grossa insofferenza per la sua diciamo così reduzione per la sua perdita di centralità noi pensiamo che era una capitale di uno staterello piccolo ma comunque importante nello scacchiere imperiale che era durato per 800 anni comunque una città grande per il territorio alpino una città antichissima che si vede praticamente diventare una una città di circolo addirittura poi di distretto cioè da un puntista politico-amministrativo Trento è un De Firc non è capitale di provincia non è più niente non è un tribunale d'appello ecco questo è vissuto come una perdita che acquisterà sempre più peso a mio avviso ma è un'idea che mi son fatto è da qui che prende forma un consistente un atteggiamento di rivalsa nei confronti dell'Austria che umilia diciamo la città in quel modo poi vedremo che Italia pensa anche Beffi ma lo diciamo subito per lui una cosa è l'Italia e un'altra è la monarchia quindi pensa assolutamente a un'Italia senza Savoia insomma non so se questo suo essere antimonarchico derivi anche dal suo odio per le teste coronate in generale per l'imperatore Francesco Giuseppe insomma nasce nel 1835 a Cusiano che è un paesino della Valle di Sole contesto quindi è il contesto di valle ma non è un contesto proprio a Greste ecco anche qua il Trentino va un po' problematizzato da questo punto il suo passato un po' con sovranità che si incontrano a macchia di leopardo fa sì che ci siano micro urbanità situazioni micro urbane nelle valli quindi sostanzialmente un policentrismo che poi crea anche delle piccole elite in questi luoghi distanti dal capoluogo poi la Valle di Sole con Malè era più vicina all'Italia dal passo del tonale ci furono sempre relazioni nei secoli precedenti viene da una famiglia agiata da una famiglia di medici anche lui ha un fratello medico chirurgo che poi viene a Rovereto e da lui discenderà poi il ramo Roveretano dei Bezzi un altro fratello farmacista lui studia presso il curato nella valle e qua ci sono due fattori secondo me importanti due momenti importanti per il suo incontro con il risorgimento prima cosa è il cugino di Nepo Muceno Bolognini la madre di Nepo Muceno Bolognini e la sorella della madre di Ergisto Bezzi Napo Muceno Bolognini che più vecchio di undici anni di Bezzi era stato al ginnasio di Trento anche qua aveva assorbito quell'unus che dicevamo prima ed era diventato come dire ardente patriote partecipando nel 1848 all'epopea dei corpi franchi quindi è uno dei non moltissimi insomma quindi pensiamo come questo abbia potuto avere effetto sul nostro Bezzi che poi nel 1853 quando ha quindi 18 anni vede passare per il suo paese Pier Fortunato Calvi ammanettato che arrestato a Cogolo in Val di Peio veniva condotto alle forche mantovane ecco sono come dire due momenti che mette in luce lui stesso poi questi come formativi per lui dopo un breve passaggio al ginnasio di Rovereto si sofferma 4-5 anni a Trento dove lavora nel settore commerciale per poi passare nella Milano ancora Lombardo-Veneta nel 1857 a lavorare presso una fabbrica di giocattoli lì prende contatto con un comitato per l'espatrio clandestino verso gli stati sardi e fugge in Piemonte quindi 1859 lo troviamo come guida nei cacciatori delle Alpi di Garibaldi arriva fino a Edolo insomma da qua data il suo garibaldinismo diciamo così 1860 è quello del momento fondante insomma ecco il suo battesimo Beffi ha 25 anni e partecipa da Genova all'impresa dei Mille è uno dei cosiddetti tre moschettieri con altri due trentini Filippo Manzi e Filippo Tranquillini è uno dei 14 15 18 trentini che partecipano all'impresa dei Mille i numeri cambiano sempre prima o dopo sarebbe bello mettersi lì a veramente stilare un elenco e biografare anche questi questi personaggi è stato fatto insomma ovviamente 50-60 anni addietro ma sarebbe bello a far l'ora sbarcato a Marsala ecco che lo troviamo in tutta la tutta l'epopea lo vede fra i protagonisti insomma entra a Palermo con Francesco Nullo poi al seguito della colonna di Medici è da questo promosso luogo tenente partecipa alla battaglia di Milazzo dove incontra anche il fratello che si era imbarcato dopo l'8 agosto è il primo in assoluto a sbarcare in Calabria e occuparezzo dopo la battaglia viene promosso capitano delle guide è nominato primo aiutante in campo poi giunge a Sapri il 2 settembre quindi nella Napoli abbandonata dal re sconfitta di Cagliazzo partecipa alle spedizioni garibaldine nella zona la battaglia del Volturno e poi a Napoli entra in contatto con tutti i personaggi che lì erano arrivati in quel momento persino Carlo Cattaneo c'è Crispi viene in urto con gli ufficiali piemontesi che arrivano ecco anche questo può essere come dire un mattoncino nel suo nel suo essere così antimonarchico è invitato dal Tur a prendere servizio nel nascente esercito Rezzo come capitano ma rifiuta e torna al suo al suo lavoro milanese e poi ammalato a Firenze quindi non partezzi per il tentativo di Sarnico nel 1862 e però come dicevo è incominciato il suo il suo garibaldinismo anche se lui in quel momento si diceva di giuno di politica ma proprio verso il 1862 anzi nel 1862 entra in contatto con le idee di Mazzini prima con le idee di Mazzini poi a fine anno con Mazzini medesimo ed è un un incontro per lui insomma importantissimo lui non lo confonde con il garibaldinismo attenzione lui dice che dei trentini solo tre furono Mazziniani lui e Camillo Zancani e Unventuri di di Arco questo lo se non erro c'è anche in una delle lettere che vennero poi pubblicate si scrive Alivio Marchetti ecco dei miei compagni d'arme due solo erano i trentini repubblicani e Mazziniani sono appunto Zancani e Venturi ci rimangono lo dice lui stesso ci rimangono rimasero a lui 90 lettere di Mazzini che non sono poche insomma segno di un rapporto anche molto intenso lui cioè molte vennero poi pubblicate da Locatelli ma altre furono perse perché lui aveva l'abitudine di regalarle lo dice più volte che ha regalato lettere dei Mazzini di Garibaldi dei Cairoli quindi il suo archivio che conserviamo comunque in parte consistente al museo è comunque un archivio prosciugato ecco diventa uno dei Mazziniani più Ligi uno del del giro di Maurizio Quadrio di Vincenzo Brusco Onnis inizia anche quell'attività cospirativa che possiamo chiamare anche terroristica in un certo modo sovversiva in quel senso siamo di fronte alla prima per conto del comitato dell'emancipatrice è inviato da Agostino Bertani a Roma per far sorgere un moto rivoluzionario che non avrà successo parte per raggiungere Garibaldi e si ferma perché viene a conoscenza dei fatti da Spromonte va a Lugano dove incontra Mazzini e con Mazzini e Cairoli si mette a organizzare i famosi moti insurrezionali in Veneto Friuli e in Trentino il 1863 64 che poi non avranno luogo ma passa l'anno del 63 fra i preparativi per formare i comitati locali organizzare le bande procurare armi e bombe si reca personalmente lui lui in Trentino e nel novembre del 64 parte da Brescia per la Valtrompia venendo poi arrestato presso Coglio dalle truppe italiane e venendo rinchiuso nelle carceri di Alessandria ecco mentre nel Trentino austriaco vengono incarcerati tutti i consurati dopo ci sarà per loro ecco un'amnistia diciamo così nel 65 compie per incarico di Mazzini un giro nell'Italia centrale per costituire una federazione nazionale e poi nel 66 entra con quadrio nella commissione direttiva delle associazioni democratiche italiane quindi c'è un suo primo ed effimero direi ruolo politico arriviamo all'altro momento fondante del 1866 anche questo andrebbe studiato a fondo a mio avviso per quanto riguarda il Trentino lo si è fatto però sarebbe bello farlo con come dire metodologie più azzurrate tenendo conto anche delle fonti delle numerose fonti austrieche ed anche dei trentini che allora si fecero volontari per la parte austriaca non ci furono nel 59 questi volontari questo è interessante è un documento che ha trovato Nicola Fontana di recente a Vienna perché l'Austria non si fidava dei trentini e quindi nel 59 impedì la costituzione di bande volontarie adesso l'austriacantismo trentino continua a raccontarci che allora fu esiguissimo il seguito di Garibaldi e che fu sostanzialmente circoscritto alle 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 elite danarose ma non era così lo sappiamo furono più di 2000 invece i volontari con che in qualche modo parteciparono alle azioni garibaldine nel 66 in Trentino più di quelli che poi insomma fecero la scelta di di entrare nel nell'esercito durante la prima guerra mondiale un volontarismo notevole e anche interessante per provenienza insomma perché invece dentro ci sono numerosissimi artisani ad esempio anche di questi centri vallisani il più di gran lunga era dato dai ceti alti e mezzani ma accanto a gente alta e mezzana che di dei combattenti isolati cospiratori gloriosi ergastolani o gli impiccati delle forche austrie che una massa non troppo numerosa e non da per tutte ugualmente numerosa ma più numerosa che non si creda e non si ripeta di gente minuta dell'artigianato partecipavano alla vita delle sette fiancheggiando da gregari pronti ad ogni violenza e udaccia l'opera dei dirigenti socialmente più alti era questa la vera aristocrazia morale della nazione questo è Gioacchino Volpe che scrive nel 1943 e secondo me inquadra perfettamente questa base di cui sto parlando ecco qui troviamo un Beffi ad un certo punto più mazziniano di mazzini perché in realtà è fra quelli che nutrono dei dubbi sull'entrare in una guerra in cui c'è come dire l'esercito regolare il dubbio però non arriva tanto ad affermare quella come dire quella lettera quella dichiarazione che Quadrio proprio Brusconis pubblicano sui giornali ecco lui scrivendo anche a Benedetto Cairoli dice che tanto io come gli altri se anche mettessero se anche mettessero la marmora a fianco di Garibaldi lo subiressimo e prenderemmo parte alla guerra ed appunto questo questo vogliamo fare ecco lui è quindi protagonista di tutta l'epopea così di Beveca dove viene anche ferito alla fine del conflitto viene promosso a maggiore e poi e poi c'è la campagna dell'agro romano mentana quando invece viene ferito da una palla che gli trapascia le cosce per cui per due anni deve camminare con le gruze e lì termina diciamo così la sua carriera bellica a quel punto ha 32 anni anche qua è tra virgolette simpatico il fatto che lui si lamenta che non prende la pensione dei come dire di reduce dei mille ma gli viene fatto notare che nel 1867 proprio in gennaio scriveva questa lettera al ministero della guerra prendendo parte alla guerra del 1866 ho creduto servire all'italia e non alla monarchia non posso perciò accettare la croce di ufficiale di Savoia statami conferita anzi già che mi si presenta l'occasione che da tempo attendeva le rimando anche la croce di cavalieri di Savoia datami per la campagna del 1860 che io non ho mai portato per essere chiaro alla fine diedero una pensione che non era legata alla croce di Savoia ma la medaglia dei mille ecco era Bezzi un repubblicano virulento insomma come fu critico verso Maffini lo fu poi anche anche in nome di Maffini stesso verso Garibaldi quando Garibaldi insulta tra virgolette Brusco Onnis dandogli del del pavido parlando nei mille di questi puri dei puristi lui prende la penna per scrivere a Brusco Onnis ma anche pubblica delle dichiarazioni insomma sui giornali ecco la cerco perché è interessante disse che il generale si metta una mano sul cuore e lo interroghi faccia una rivista del cosa sono oggi la maggior parte dei suoi prodi del 60 generali prefetti colonnelli deputati direttori di società governative reggi professori penne vendute purtroppo anche alla polizia e come lui stesso li chiama nel suo libro tutta gente che vuol vivere lautamente li confronti dico con quest'uomo puro allora e puro oggi dopo 14 anni con un'esistenza continua di sacrificio e poi mi dica chi ha più degno di stima se l'uomo che restò sempre puro incorruttibile davvero oppure quelli che per una pagnota rimegarono i propri principi e poi inizia una sottoscrizione a favore di di Brusconis ecco questo per dire anche che non è uno che poi si facesse del tutto soggiogare da queste enormi personalità con cui veniva in contatto qui in questo periodo lui si avvicina anche al gazzettino rosa c'è un suo avvicinamento diremmo così a un proto socialismo un radicalismo insomma di questo tipo dice Croce che al socialismo passarono molti garibaldini ma pochissimi mazziniani ecco lui non passò al socialismo però c'è un interesse ancora nel 1895 scrive a a Tolomei su cui adesso punterò un po' l'attenzione dicendo che in quel momento si sentiva vicino ai socialisti nonostante il suo mazzinianesimo ecco poi su mazzinianesimo e garibaldinismo anche lì ci sarebbe da scavare ricordo un bel articolo di ragionieri forse sulla rassegna storica toscana dove cercava di definire i due ambiti e diceva che i due termini avevano non solo un significato diverso ma erano anche qualitativamente differenti e sottolineava quanto poco si riuscisse a definire politicamente la categoria la categoria del garibaldinismo la vicenda delle elezioni è interessante perché parte elezioni siamo nel 1890-91 parte da una sua lettera pubblicata una lettera aperta a Francesco Crispi che aveva fatto professione di anti il redentismo eccellenza voi vi ingannate se con lì additarci agli italiani come alleati al Vaticano avete creduto di farsi odiare e ripudiare dal paese al Vaticano vi siete alleato voi tutte le volte che per convenienza avete piegato le ginocchia davanti agli altari in cui non credete eccetera eccetera si sceglie quindi da parte di un comitato che girava attorno ai fratelli Tolomei di portare Bezzi candidato alle elezioni per il collegio di Ravenna lui ha con i Tolomei un rapporto intenso insomma considererà Ettore Tolomei ancora dopo inizio novecento un grande erede del mazzinianesimo anche questo è interessante lui accetta di farsi di essere portato deputato ma dice appena dovessi venire eletto rassegnerei le dimissioni che lo farei solo per atto dimostrativo e decide di scrivere una lettera di rinuncia dove sostanzialmente da a chi aveva invece accettato di venire a patti con la monarchia quasi del disonesto insomma insomma ecco abbiamo una lettera di del Tolomei Arnaldo che lo implora dice le scrivo per chiederle se è possibile a parte ogni questione politica a non pubblicare quella lettera di rinuncia ai suoi elettori come finisce finisce che ovviamente Beffi pubblica la lettera invece fa per la mia Trento sono pronto a dare la vita ma non posso sacrificarle la coscienza ripugna a questa il giurare fedeltà alla monarchia perciò mando le dimissioni da deputato del collegio di Ravenna è un momento per lui eroico insomma di cui giustamente poi menerà anche vanto rimane in fin dei conti un sovversivo un rivoluzionario un antimoderato insomma c'è una una circolare del 1884 a lui a lui attribuita dove si dice pongasi fine alle inutilizzarle e si incominci l'azione viagino il governo italiano perché passa di viltà in viltà fino a stringere all'autocrata austriaco la mano rossa ancora di sangue invendicato l'era del platonismo deve essere chiusa per sempre che si faccia incetta di armi e di munizioni si preparino bombe dinamite già che ogni arma è buona per chi è stanco del gioco straniero poi c'è un richiamo Oberdan qua sembra più passatemi la battuta per metodo il nonno di Prospero Gallinari più che di Ugo la Malfa ma questa questa era la realtà del momento lui è interprete di questo momento e la Polifia che continua a tenerlo d'occhio lo intercetta lo definisce uomo di vasta cultura e di rara energia insomma è un antimoderato che se la prende anche con i suoi connazionali con i trentini del circolo milanese insomma scrive a Locatelli il vostro eroe cioè lui stesso non ha mai voluto entrare né nella Dante né nella Trento Trieste perché sapeva essere composte di schiere di moderati conservatori della più bell'acqua sempre pronti ad inchinarsi ai consigli per non dire agli ordini di qualunque ministro della monarchia e ancora ma sapete che i miei compatrioti trentini vogliono farmi codino come loro ieri vennero qui in commissione perché intervenga un pranzo che si danno al senatore Esterle tutti i codinoni della più bella acqua quasi una fortuna che abbiano trovato tappato in casa in condizioni da non potermi muovere ecco Beffi è anche un personaggio che secondo me ha un po' un culto di se stesso ovviamente e il suo mito lo coltiva un po' quasi per per assenza mi verrebbe da dire lui per scelta non partecipa a nessuna manifestazione politica sdegna soprattutto quelle celebrative guai quando c'è di mezzo qualche celebrazione dei si reca ecco per i 50 anni a spedizione dei 1000 a Genova in incognito per vedere la parata assieme agli spettatori quasi una curiosità un po' morbosa ma un po' sarcastica insomma ce lo immaginiamo lì lui scrive scrive memorie fogli frammenti di vita che poi distribuisce a un po' Tone Brentari un po' soprattutto a Giuseppe Locatelli che ne scriverà la biografia Beffi Vivente e c'è proprio un suo come dire un gusto in questo lui dice che gli piace sentire narrare le sue gesta da altri insomma a questo gusto lo scrive a Locatelli ed ha anche un simpatico occhio per la storiografia che esce sull'argomento ad esempio dice ho ricevuto il libro di Maffini il volume su Maffini del Bolton King mi ha fatto l'effetto che l'inglese politicamente abbia rimpicciolito il Maffini e non abbia dato l'importanza che merita tutti i suoi tentativi di insurrezione che se anche non riusciti giovarono a tenere sveglio il sentimento di italianità ma in tutto il resto vi sono delle pagine straordinarie ed è umiliante per noi che i libri più belli sui nostri grandi si debbano agli inglesi e poi e poi ovviamente non poteva non prendersela con lo storico moderato per eccellenza che razza di cani sono questi storici moderati il loro capo il Luzio è in mala fede o è un grande ignorante e avanti avanti con Luzio ce l'ha più e più volte a dire la verità ecco queste memorie trovano ecco anche nella rivista Tridentum diretta da Cesare Battisti vengono anticipate nel 1910 con grande difficoltà perché dei passi ovviamente vengono vengono censurati e e arriviamo al 1914 quando lui stende un un come dire un invito alla gioventù italiana sull'ora presente il quindicinale interventista torinese i vostri padri disse contrassero un debito con il mio Trentino e voi giovani dovete pagarlo o giovani di tagliatuta fate vostro quel grido l'ora presente o mai più e dovreste dire al re quello che Mazzini scrisse nel 65 a Vittorio Emanuele o guerra all'Austria o rivoluzione poi è vero come dire l'ha scritto Eva Cecchinato proprio che Bezzi segue con passione gli avvenimenti ma pian piano perde un po' di entusiasmo per una guerra come dire uso le sue parole in cui l'Italia entra dopo troppe oscillazioni che avrebbe rischiato di rinsaldare ancora una volta la monarchia e i tradizionali equilibri politici lui sappiamo che ebbe spese delle parole come dire di approvazione per il volta faccia diciamo così ovviamente di Mussolini un irredente si congratula che anche che avete finalmente abbandonato gli eunuchi gli eunuchi sono ovviamente i socialisti ecco in questo momento Bezzi è eminentemente antisocialista insomma e però e però e però questo è il punto finale su cui mi soffermo trova un dialogo importante con Cesare Battisti Cesare Battisti diventa un po' c'è un rapporto filiale quasi insomma ecco in queste lettere che i due si scrivono Beffi sente Beffi sapeva chi era Battisti anche prima forse aveva anche intuito che il suo socialismo era un po' eterodosso insomma adesso non voglio soffermarmi su questo tema ma però Battisti anche anche un animo radicale ha un animo mazziniano più che con i socialisti in Italia va d'accordo con i repubblicani è amicissimo in corrispondenza con Ghisleri ne parlavamo ieri con un nazionalista democratico appunto con Scipio Sighele quando fa il socialista effettivamente è quasi più in rapporti con il socialismo austriaco anche se non lo è molto ma lo è per forza essendo anche nel Parlamento viennese insomma ecco l'antisocialista Beffi in quel momento si rivolge a un Battisti che non è più socialista perché il Battisti del 1915 e 16 non lo è non c'è niente di antisocialista in quello che scrive ma non è neanche antisocialista e questa è una cosa interessante Battisti vive in quel momento in una sorta di tempo sospeso che mi fa pensare che lui lasciasse aperte le porte in futuro anche a possibili riannodamenti ecco con quel mondo anche quando è stufficato stimolato in via privata forse una volta si abbandona ma non c'è mai una critica una presa di distanza un ripudiare il mondo il movimento socialista mai anzi sappiamo dalla Ernesta dalla moglie che fu tormentato sino alla fine dall'immagine dei due socialisti uccisi nel corso dei tafferugli fuori del teatro a Rezzo Emilia dove erano andati a manifestare contro il suo comifio interventista insomma ecco anche a Battisti ovviamente quello quello che dice è quello che abbiamo sentito più e più volte da Beffi insomma cioè lo mette in guardia sostanzialmente dai Savoia e la monarchia che sono quelli di sempre il re piccolo che conjura con i clericali eccetera eccetera questa è proprio l'ossessione l'ossessione di Beffi vado anche alla chiusura con una considerazione proprio che mi è venuta in mente e probabilmente una stupidata perché è una considerazione di stamattina pensando proprio a Beffi e Battisti Beffi fondamentalmente è un anti-trentino passa gran parte della sua vita fuori del trentino come dire abbraccia un movimento quello mazziniano che non aveva e non poteva avere addentellati in trentino è un momento anche in cui non c'è non circolano giornali ancora sono pochi non c'è non si sono i partiti di massa e lui fa parte di un'elite ma questo atteggiamento lo avrà sempre scrive ad esempio a un certo punto quando chiede il passaporto per andare in trentino nel 1862 se non sbaglio dice non pensate che io abbia voglia di fermarmi più a lungo insomma perché lui dice io non ho voglia di fermarmi a lungo in trentino più e più volte in altre lettere scrive questi trentini questi c'è un disprezzo che ecco in Battisti è impossibile trovare Battisti appunto figlio di un'altra epoca socialista che quindi come dire entra in un grande movimento di massa conosce la Firenze effervescente insomma di cui ci verrà ci si parlerà anche nei prossimi giorni conosce Torino conosce Milano perché si reca dai cugini dall'Ovio ma torna sempre a Trento è lì che lui e vi trascina anche una tutto sommato non del tutto volente secondo me Ernesto Abittanti scrive la tesi sul trentino è impossibile sentire dalla sua voce una parola di biasimo nei confronti dei trentini anche quando sono distantissimi dal suo credo politico quando va a far propaganda in campagna a fondo e lo fischiano e tirano veramente le pietre si rifiuta di denunciarli andranno a processo perché sono denunciati dai gendarmi austriaci o i bocchi li accusano di oscurantismo perché capitanati dai preti per dire come come potevano andare le cose ecco questa è una una differenza notevole che ci mostra anche come forse erano erano cambiati i tempi vabbè dopo la guerra c'è l'adesione ovvia ai fasci di combattimento la vicinanza ai fiumani e l'entrata nel repubblicanesimo ieri con Fabrizio Rasera e Roberto Pertici dicevamo è sempre impossibile dire veramente quale sarebbe stata la collocazione politica se per Bezzi viva Dio potremmo dire che almeno monarchico non lo sarebbe diventato perché se no i fascisti lì per lì lo fanno su Ergisto Bezzi lo fanno proprio Ergisto Bezzi è con noi dicono però poi andando a ben vedere questo sarebbe un bel tema di studio a me non pare che durante il ventennio in Trentino la sua figura come anche quella di altri Garibaldini ma la sua in particolare sia così utilizzata sì appaiono un paio di articoli ma sempre del denturage della vedova Battisti comunque non ho ravvisato un uso un utilizzo smaccato della figura di Bezzi da parte del fascismo ecco muore poi a Torino nell'agosto del 1920 sulla data di morte io mi fermo e mi scuso di questa relazione un po' borracciata ma reputo davvero sempre importante e mi piace anche indagare anche le biografie minute di queste figure eccentriche perché penso sempre sono convinto che poi è l'unica cosa che quelli che si definiscono come mai gli storici locali possono fare che da queste storie poi così messe in relazione messe in una rete possano venire fuori delle narrazioni più chiaroscure più 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 increspate e che più quindi si avvicinano alla complessità e alla irriducibilità ad una formula semplice della realtà insomma storica grazie a Mirko Saltori per questa relazione bella vivace interessante documentata che ha restituito per così dire anima corpo ed emozioni un personaggio minore che nel momento in cui oggi va abbastanza di moda la storia delle emozioni ci fa capire quanto anche questo elemento di passione di vita quotidiana di ego nei confronti degli altri vada recuperato per capire questa stagione quindi il periodo che ci ha portati a arrivare dal decennio di cui ci occupiamo in questo convegno attraverso la fine del secolo la grande guerra quasi le vigili del fascismo dall'idea anche di quanti elementi poi sono da studiare nel uso politico fatto dell'esperienza risorgimentale nel quadro della grande guerra e ancora poi del fascismo a partire proprio da vicende biografiche di questo tipo passiamo quindi all'ultima relatrice di questo pomeriggio Eva Cecchinato che si è formata all'università Caposcari di Venezia sotto la guida di Mario Isnenghi ha conseguito il dottorato all'università di Torino e sebbene compaia qui come università a Cafostere appartiene a quella categoria citata questa mattina da Emilio Franzini di persone che pur avendo i titoli da professore ordinario non hanno un ruolo definito all'interno dell'università sono molto noti sui studi recenti e importanti sul garibaldinismo sulla tradizione sulle politiche della memoria la tradizione garibaldina il volontariato garibaldino non solo in epoca postunitare quindi quegli studi anche sul chiamiamolo reducismo l'associazionismo garibaldino ma anche sui volontari della guerra di Spagna che in qualche modo riprendono una tradizione sul lungo periodo do la parola invece Chinato il titolo della sua relazione è il partito dell'avvenire il decennio postunitario nei carteggi di Agostino Bertani altro personaggio citato poc'anzi che sarà uno dei grandi protagonisti di quella che si chiamava la democrazia negli anni successivi all'unità grazie e buonasera a tutti anch'io vorrei ringraziare sinceramente gli organizzatori per avermi consentito di partecipare a questo ricchissimo convegno e ho pensato che potesse essere una buona occasione questa per valorizzare la figura di Bertani che fra l'altro per tanti versi insomma si collega bene a tante questioni che sono state affrontate anche nella relazione che mi ha preceduto e farlo attraverso il suo epistolario di cui da tanto tempo ormai sto curando l'edizione per l'istituto per la storia del risorgimento italiano che spero iniezione che veda la luce tra non troppo tempo allora Agostino Bertani è sicuramente una delle figure a parer mio più sottovalutate dell'ottocento italiano fu un esponente di primissimo piano della democrazia risorgimentale e post risorgimentale che ha lasciato un epistolario molto vasto una delle ragioni della sua sfortuna critica che è in dubbia anche cioè c'è anche una obiettiva scarsità di studi su Bertani va cercata nel fatto che egli come il suo grande amico e maestro che fu Carlo Cattaneo venne ritenuto un irregolare sia dai moderati che dai democratici i primi i moderati lo individuarono ben presto come un elemento più refrattario tra gli uomini per esempio più vicini a Garibaldi ad adeguarsi alla loro intenzione egemonica Cavour e molti moderati che ebbero occasione di trattare con lui nelle giornate decisive del 1860 lo considerarono come il più pericoloso tra i seguaci di Garibaldi e anche per questo fu oggetto di campagne calunniose molto pesanti che lo presentavano come suggeritore e stigatore delle peggiori decisioni di Garibaldi e profittatore addirittura di denaro pubblico ebbe delle delle accuse molto pesanti rispetto alla gestione dell'impresa dei Mille di tutta l'impresa meridionale e ad un certo punto fu accusato anche di aver ingiustamente poi di aver ordinato di sparare contro le truppe regge che stavano entrando diciamo ci stavano avvicinando a Napoli in pratica inoltre altro aspetto nella volgata risorgimentale che è strutturata era strutturata si strutturò soprattutto attorno alle figure di padri della patria e che in origine era addirittura legata ad uno schema binario cioè da una parte il re e dall'altra Garibaldi la figura di Bertani restava assolutamente eccentrica una figura la sua che fece anche da ponte e da raccordo più avanti tra il radicalismo democratico di matrice risorgimentale e quello sociale del primo movimento operaio senza dubbio Bertani ingetta uno sguardo molto originale sul primo decennio postunitario che è il tema di questo convegno ma prima di addentrarci in questo terreno è opportuno presentare seppure sinteticamente la sua figura che parte più indietro ovviamente in modo da riuscire a cogliere le radici e la sostanziale coerenza di un percorso è un percorso nel quale conta molto il rapporto tra medicina e politica Bertani è un medico e che illumina tanta parte del carattere e dell'azione di questo personaggio con una costante attenzione ai progressi della medicina contemporanea anche con una conoscenza diciamo di respiro internazionale di questi aspetti Bertani nei suoi sforzi per organizzare per esempio i medici le elevatrici riformare le condotte esprimeva una concezione fortemente sociale del ruolo del medico come innovatore dei comportamenti delle pratiche delle masse popolari e poi come soprattutto nella fase postunitaria come veicolo fondamentale dei progressi del paese su questo terreno ovviamente si incontrò con Carlo Cattaneo in cui ebbe un sodalizio umano molto forte politico e culturale che non si interruppe mai fino alla morte di Cattaneo nel 69 e che come lui avrebbe sempre cercato di stabilire tra scienza e politica un fortissimo nesso dove la prima la scienza quindi dovrebbe individuare quelle che potremmo definire le patologie sociali e alla seconda invece aspettava il compito di definire e applicare i necessari rimedi il 48-49 fu per Bertani il biegno dell'adesione piena al movimento democratico lo fece da medico fu il medico della rivoluzione milanese della Repubblica Romana l'anno dopo in generale dobbiamo tener conto che la sua formazione culturale lo spingeva allora e sempre poi lo avrebbe spinto verso una concezione antropologica che considerava l'uomo concretamente riformabile senza capire questa idea della riformabilità o se si preferisce della possibilità di miglioramento della condizione umana non si coglie oppure si interpreta solo come limite e diciamo irresolutezza la posizione un po' sospesa di Bertani tra legalismo e rivoluzione tra aspirazione riformista e un'istanza diciamo profonda di tipo rivoluzionario cioè di trasformazioni veramente profonde della società del resto nel suo approccio scientifico dal suo approccio scientifico discendeva probabilmente anche un certo modo empirico di procedere in politica un atteggiamento che presto e anche qui bene entra in dialogo con la relazione precedente la mia un atteggiamento che ben presto rese incompatibili le sue posizioni con quelle di Mazzini anche se Bertani non mise mai in discussione il ruolo del genovese come precursore del movimento nazionale né l'autenticità delle sue intenzioni la purezza la buona fede delle sue intenzioni rivoluzionarie tenutesi lungamente a Roma dopo la caduta della Repubblica Bertani scelse la fine di stabilirsi a Genova e questa fu una scelta decisiva per lui dove riprese anche la sua attività di medico intanto per usare le parole di Jesse White che fu un rapporto molto importante con Bertani si fece centro di una società di uomini espressione che allude agli incontri genovesi del lunedì sera in casa di Bertani dove i giovani esoli democratici si radunavano per discutere di scienza di politica di letteratura e di azione fissando la sua residenza a Genova io faccio il medico in questa novella a California scriveva Cattaneo nel marzo del 50 venne a trovarsi in una città politicamente molto vivace come si sa dove le libertà statutarie davano respiro all'organizzazione di gruppi militanti e di un'opinione pubblica fortemente e tradizionalmente orientata in senso antimoderato in questo ambiente Bertani si impose come elemento di punta della nuova generazione democratica pur con le cautele che si imponevano in particolare agli esoli con tutta la precarietà che essi si portavano appresso anche esistenziale economica politica il suo lavoro di medico che esercitava anche tra i centri popolari garantiva oltretutto una certa popolarità che poteva essere monetizzabile diciamo anche in politica nel frattempo il suo approccio scientifico lo allontanava sempre più dai facili e continui entusiasmi rivoluzionari di coloro e lui ce l'aveva anche con Mazzini coloro che avevano per il scopo il fare per fortuito il riuscire come si legge nella nota lettera del gennaio 58 con cui i democratici raccolti attorno a lui si separarono in via definitiva e esplicita ufficiale dal genovese sono anche gli anni in cui nascono e si consolidano per Bertani sodalizzi umani e politici che non si esauriranno mai non solo quello assai noto che ho già citato con Jesse White e Alberto Mario ma pure quello per esempio con il medico Mantovano Achille Sacchi con cui Bertani poteva condividere non solo ideali o progetti politici ovviamente ma anche confessioni più intime e spesso molto dolenti sulla fatica emotiva e psicologica connaturate alla comune condizione di medico nella seconda metà degli anni 50 e anche attraverso la biografia di Bertani è possibile dunque osservare lo sforzo organizzativo con cui la generazione democratica post-mazziniana si impegna a costruire un nuovo partito la figura di Garibaldi da un lato riapparso sulla scena italiana dopo il suo secondo esilio maricano e al momento aderente alla società nazionale e dall'altro quella di Bertani che invece non rinunciava in quel momento a ribadire la propria insofferenza verso la collaborazione reggia sono in quel momento ancora una di fronte all'altra come due alternative quindi da una parte la posizione di Garibaldi l'altra di Bertani quel che cambia decisamente lo scenario è ovviamente la guerra all'Austria nel 59 fu allora che Nizzardo si rivolse a Bertani per organizzare e dirigere l'ambulanza del corpo di spedizione dei cacciatori delle Alpi politicamente pur non sovrapponibili le visioni di Garibaldi e Bertani erano allora accomunate dalla disopprovazione verso l'atteggiamento di Mazzini nelle lettere dei primi mesi del 59 la linea del genovese contestata da Bertani rivolgendosi direttamente a lui e discutendone con compagni di lotta come per esempio Cadolini nello scrivere al quale Bertani definisce la stensione predicata da Mazzini un dispetto fanciullesco e sostiene l'importanza che il partito sia tutto armato ed in qualche modo potente che goda di fiducia e simpatia anzi che soffra di diffidenza e relegazione la battaglia della libertà che insieme a quella dell'unità stava a cuore ai Bertaniani sarebbe ovviamente combattuta dal suo punto di vista in condizioni diverse dopo che la partecipazione alla guerra li avesse resi interlocutori credibili nei mesi successivi all'armistizio di Villa Franca il pensiero dominante di Bertani emerge chiaramente dal suo epistolario convinto allora e ancora a lungo che nessuna mobilitazione popolare in armi potesse prescindere dalla presenza carismatica del Nizzardo l'obiettivo verso cui convogliare tutti gli sforzi era a suo parere rimettere in scena Garibaldi smuoverlo dalla sua fatale segregazione dal mondo politico poiché ovunque spirava calma o piuttosto scirocco la primavera del 60 era infatti una di quelle fasi storico-politiche di cui Bertani intuiva l'irripetibilità del momento da cogliere e sfruttare e in uno di quegli slanci di entusiasmo di cui il milanese era capace a Cattaneo prefigurava una sorta di dream team della democrazia scrivendo in questo modo nell'aprile del 60 e se tu facessi una corsa qui a Genova ovviamente intende c'è Garibaldi che è la nostra artiglieria tu il nostro genio io mi metto tuo zappatore in quel momento la prospettiva di Bertani era ancora quella solare ottimista costruttiva di una concorrenza democratica capace di servire cito potentemente a rimorchiare la falange la fariniana cui la nostra franchezza e costanza di azione è di stimolo possente a sortire da una sfera troppo ristretta nella spedizione dei mille di tutta la sua organizzazione compresa la partenza da Genova la notte tra il 5 e 6 maggio l'esecutore principale è proprio Bertani con Garibaldi incerto fino all'ultimo sprinto in extremis da Crispi a risolversi a salpare Bertani percepiva quel punto tra la linea sua di Garibaldi e quella la fariniana un dualismo inevitabile non di persone ma di convinzioni e tuttavia era convinto che la società nazionale potesse riformarsi mettendosi alla temperatura e al diapason del giorno sono momenti fuggevoli bisogna usarne per trionfare scriveva Crispi nel giugno del 60 il medico Lombardo rimase all'inizio nella città della Lanterna come riferimento politico del vasto moto di solidarietà all'impresa meridionale si occupava appunto degli arruolamenti e fu la mente il centro di una vasta mobilitazione che proveniva da tutto il paese che nutrì le successive spedizioni di sostegno con cui crebbe il numero dei volontari fino a raggiungere circa il numero di 50.000 costruendo inoltre attorno all'impresa militare un'atmosfera di popolarità e di consenso di massa che provocò una frattura interna alla società nazionale io ho costituito comitati di provvedimento scriveva Garibaldi nel luglio del 60 a Bologna per le Romagne a Parma per i Ducati a Firenze e Livorno per la Toscana ed agiscono energicamente bene ed impongono al paese mediante questi io sono padrone di migliaia di uomini anche il comitato dell'ordine di Napoli mi supplica di dargli la parola d'ordine per insorgere ma siccome mi chiede armi ed armi non ho disponibili per essi così mi arresto ma se volete do fuoco alla miccia forse allora gli parla finalmente di vedere coronato il suo impegno per la costituzione di un partito di popolo ispirato ai principi di progresso e di libertà magari Baldi che probabilmente non aveva davvero intenzione di essere il leader di quello o di alcun partito finì con negare le iniziative di Bertani il proprio appoggio ufficiale il milanese non ottenne infatti il riconoscimento come unico sul rappresentante Genova non venne sostenuto nel tentativo verso l'Italia centrale con cui avrebbe potuto mettere in crisi la direzione moderata ma Bertani non ebbe neppure chiare indicazioni sulla linea da seguire a fine settembre Garibaldi gli appariva confuso disorientato tra mille pressioni di segno opposto e colpito da paralisi morale e a Napoli dove il milanese era entrato a fianco del generale nel volgere di pochi giorni si consumò poi la rottura tra le due opzioni plebiscito contro costituente sulle modalità di accesso del sud al regno d'Italia è di quelle settimane una lettera a Garibaldi alla quale Bertani affida riflessioni cruciali e modernissime sul ruolo dell'informazione sulla modalità di diffusione delle narrazioni dominanti e sulla costruzione dell'opinione pubblica cioè sulle discrasie tra i pochi che vivono in prima persona gli eventi periodizzanti e i molti di più che ne determinano il senso diffuso e l'esito politico non pensate voi che sarebbe assai conveniente per i futuri e prossimi destini vostri d'Italia che voi vi ritiriate in Sicilia anziché altrove importa tenere alcune armi e munizioni per noi in luogo sicuro ed in Sicilia ciò potreste in Sicilia voi siete uno sprone continuo uno spauracchio se volete a tutta Europa e ciò conviene importa dare ogni maniera di forza ed importanza all'associazione unitaria di Costi di Milano e dalle sue figliazioni noi avremmo ancora una forte associazione da contrapporre alla nazionale avremo mezzi attività influenza io penso al giornalismo che voi non curate a torto sono più gli uomini che leggono e credono a ciò che leggono che quelli che combattono e vi seguono e questi li vedete un'altra volta disertori o dispersi per opera di milioni di lettori e credenzioni quando voi vi risentivate contro le esigenze ministeriali che io condannai da principio voi battevate sdegnoso la mano sulla spada vostra dicendo conquista conquista dall'autunno del 60 nella fitta corrispondenza tra Bertani e in particolare Crispi si svolse un assiduo dialogo che ruotava proprio attorno al ruolo politico di Garibaldi e il dibattito sulle scelte e gli atteggiamenti del capo può quasi considerarsi un genere all'interno della corrispondenza dei Garibaldini di più alto profilo basata soprattutto sul rammarico per esempio sulle ingenuità politiche di Garibaldi ma allo stesso tempo c'era la consapevolezza in Bertani e in molti altri che nessun tentativo che facesse appello alla guerra di popolo e al volontariato in armi ovviamente avrebbe avuto speranza di successo senza il coinvolgimento diretto di Garibaldi quelli erano anche i mesi in cui Bertani si stava impegnando con Daelli e Cattaneo a promuovere una federazione dei giornali democratici e gli aveva compreso presto la necessità di superare l'informazione localistica sia in ragione ovviamente di considerazioni economiche sia per la possibilità di contribuire più efficacemente alla formazione di un'opinione pubblica tema che con molta lungimiranza Bertani riteneva cruciale e che lui andava di pari passo con il perdurante interesse che concitivò fino alla morte per la costituzione di una sorta di archivio storico della democrazia che consentisse non solo di rintuzzare nell'immediato accuse e calunnie della parte politica avversa ma anche soprattutto sul più lungo periodo di partecipare non disarmati alla contesa della memoria sulle origini dell'Italia Unita con questo scopo per esempio alla fine del 60 Bertani aveva redatto un invito ai volontari per raccogliere i propri ricordi questa collezione della gesta militare della democrazia italiana sarà un patrio monumento in cui nessuna virtù nessun atto di coraggio nessun fatto interessante verrà sottratto all'attenzione all'omaggio e all'emulazione degli italiani sarà una sicura guarantigia contro le menzogne che gli avversari della democrazia già cominciarono a tessere col tito di storia di quell'impresa senza dubbi esemplare dove emerse il fondamento vero dell'unità nazionale nel 61 non mancarono ulteriori tensioni con Garibaldi dal quale tuttavia la sinistra non poteva prescindere bene al rischio di frantumazione e di vedersi di nuovo ricondotta su posizioni minoritarie fino al pericolo dell'esporsione dal terreno della legalità oppure altro rischio che Bertani gli uomini a lui più vicini volevano evitare quello di ritornare sotto l'egemonia mazziniana che per lui era altrettanto negativa che una direzione diciamo Garibaldina autoritaria autoritaria a Nizzardo al di là di tutto Bertani sapeva riconoscere di essere un galantuomo per quanto sia debole e ingannabile ma con rammarico non lo riteneva un iniziatore politico egli non sa e non sente o non vuole usare della sua potenza su tutto il partito democratico rivoluzionario europeo né della immensa sua forza sulla classe operaia bisogna persuadersi scriveva Giuseppe Dolfi che il generale non conosce il potere non lo sa esercitare lo incaglia per fare la benevolenza verso chi che sia e non vuole non sa crearsi capo di alcun partito né vuole comprendere il mito che sarà chiuso e fa vessillo del suo nome Garibaldi però rimaneva imprescindibile e insostituibile per aprire brecce rivoluzionarie Garibaldi è disposto ad andare dovunque si comincino le fucilate in pro della libertà è una polvere da mina ricordatelo bisognerà preparare gli architetti e i muratori dopo che egli avrà aperto la breccia bisogna rinforzarlo ecco tutto Bertani nell'autunno del 61 durante la discussione sulla politica del governo nel meridione aveva lanciato in parlamento la parola d'ordine mandate Garibaldi a Napoli come soluzione per placare il malcontento del sud dove fra trame borbonico-clericali disagio sociale e sdoganamento della violenza imperversava come abbiamo visto il brigantaggio ed era tra quanti mettevano in relazione la crisi del mezzogiorno anche con la frettorosa smobilitazione dell'esercito garibaldino nei primi mesi del 62 Bertani aveva visto con favore i crescenti malumori di Garibaldi speriamo nell'ira sua aveva scritto di nuovo Adolfi giacché quando è in vena di conciliazione non ne caviamo granché il 27 giugno 62 quasi nessuno aveva capito se Garibaldi fosse salpato da Caprera per dirigersi verso qualche punto della costa italiana o piuttosto verso la Grecia ma il 30 giugno Bertani poteva inviare ufficialmente al generare una lettera piena di entusiasmo e di fiduciosa attesa per le sue mosse applaudendo non solo al ritorno in Sicilia ma anche alla prospettiva di riprendere politicamente non solo fisicamente il cammino interrotto due anni prima sul Volturno voi sparcando adesso a Palermo siete nuovamente entrato nella via da tutti noi per lungo tempo in vano desiata e seguendo il vostro lucido e patriottico intento avete penetrato la convenzione nostra profonda che per dar Roma e Venezia all'Italia bisogna rifare la strada che ci condusse da Marsala al Volturno Bertani tuttavia non si mosse da Genova il problema ai suoi occhi non era stato tanto la ventatezza dell'iniziativa ma ancora una volta l'insufficiente coordinamento tra Garibaldi e la democrazia i cui uomini più autorevoli come aveva temuto accadesse erano stati sbalestrati fuori dal circolo d'azione nei migliori momenti lo scontro sulla spromonte con relativo ferimento di Garibaldi da parte della forza regia non portò alla guerra civile come allora si paventò ma ebbe come cornice e come coda la repressione dello sviluppo del movimento democratico con la promulgazione dello stato d'assedio al sud e la conseguente sospensione delle libertà costituzionali prima e fra tutte quelle di stampa e di associazione si faceva più che mai urgente l'obiettivo che Bertani si era proposto fin dalla nascita dell'Italia Unita dare solidità e vigore a un partito democratico radicato nel paese progetto nel quale tentò a più riprese di coinvolgere organicamente Cattaneo almeno sul piano dell'impegno culturale militante incitandolo in vano a lasciare il suo amenissimo scoglio per venire fra i viventi serriamo le file carissimo Carlo gli scriveva nel giugno 63 riconosci il tuo posto e la tua potenza e aiuta la comune baracca noi dobbiamo vincere così mettendo la luce intorno agli idoli e partendo dalle cose quali sono per arrivare a quali dovrebbero essere la costruzione del partito il senso da attribuire al proprio ruolo di parlamentare l'impegno per lo sviluppo della stampa e delle associazioni erano in quest'ottica piani distinti ma non separabili si trattava innanzitutto di riempire e possibilmente ampliare gli spazi di cittadinanza educando all'esercizio delle libertà statutarie superando l'inesperienza del popolo italiano nell'illusio dei diritti costituzionali come scriveva e dissodando in tal modo terreni in cui diffondere ideali democratici illuminante in questo senso anche rispetto all'individuazione di figure di mediazione politico-culturale quanto Bertani scriveva nell'aprile 61 al fiorentino Giuseppe Dolfi figura chiave dell'associazionismo operaio e all'epoca direttore della neonata nuova Europa su cui come già sul diritto e poi sul dovere Bertani investì energie e risorse economiche sarebbe assai bene diffondere nel popolo il giornale il metodo per riescire a ciò parmi sia quello di mandarne copie nei luoghi di convegno popolare come bettole piccoli caffè botteghe e banchi di ritrovo un popolo deve accorgersi che sia speciale cura di lui avrete anche voi altri capi popolari attirateli a voi date loro una copia del giornale fate che le loro adunanze se lo spieghino se lo commentino lo appoggino insomma l'altro piano in cui agire come emerge con evidenza dall'epistolario era la costituzione la costruzione di una credibilità politica di governo per la sinistra particolarmente urgente di fronte alla progressiva perdita di fiducia di cui stavano soffrendo i moderati come Bertani osservava scrivendo a Bixio nel settembre del 1861 è chiaro che il paese incomincia a perdere la cieca fiducia che aveva già posta nel governo e che riescendo sempre più evidenti i minacciosi fatti che fanno ora vacillare tale fede egli si troverà presto in cerca di una nuova via di salute e però se non avrà potuto frattanto acquistare fiducia nei mezzi e negli uomini rivoluzionari si rassegnerà a qualche malasorte che gli si presenti come inevitabile se hanno gli uomini del nostro colore come più capaci di coraggio e abnegazione non li stima ancora atti a governare chi ci giudica più favorevolmente ci chiama ancora utopisti per questo era necessario con l'illustrazione dei fatti cifre programmi concreti far giudicare i liberali qui liberali viene usato nell'accezione con cui noi potremmo usare il termine liberal per esempio adesso negli Stati Uniti come progressisti democratici uomini seri e renderli quindi possibili al governo la democrazia in ogni caso doveva smetterla secondo lui di dottrineggiare e impegnarsi piuttosto a costruire con intelligenza e visione organica le liste elettorali anche invece di dare l'idea di una dissolvente frammentazione personalistica nei singoli collegi con l'organizzazione delle risorse si sarebbero ottenuti risultati era inutile cercare nuovi miracoli con le bande con i busti di gesso e con gli schiamazzi e di fronte a punti di rimenti come la lotta al brigantaggio pur in presenza di sostanziali divergenze sulla linea politica era importante dimostrare disponibilità alla collaborazione con il governo che pur su questo fronte aveva sempre respinto il supporto operativo dei democratici prima diciamo di Cialdini per esempio offrendosi di mobilitare volontari in armi da inviare al sud la prospettiva politica di medio e lungo periodo di Bertani prevedeva uno schema dei rapporti tra dimensioni parlamentare ed extra parlamentare in cui giocava un ruolo fondamentale Francesco Crispi suo costante interlocutore col quale nell'estate 64 si dichiarava d'accordo rispetto all'urgenza di strutturare un partito io credo però che entro il Parlamento debba costituirsi in una misura e fuori con altra senza che i due campi si combattano ma sia che l'uno spinga o sostenga al di fuori l'altro alla Camera al netto di ballottaggi candidature più o meno fortunate talvolta annullate e poi riconvalidate Bertani non era a suo agio specialmente a Torino asfissiante Codinopoli la definiva in Parlamento maceratoio di animi si sentiva spesso sbriciolato impotente impigliato ad ogni passo nel formalismo e nel non si può non conviene come confessava d'Achille Sacchi sullo sfondo nei primi anni unitari e sostanzialmente fino alla morte la difficoltà di svolgere un ruolo istituzionale lontano dal proprio tetto e dalle proprie fonti di reddito in tempi in cui in assenza di un'indenità parlamentare la politica era solo per i ricchi e per chi non dovesse sacrificare alla militanza risorse economiche e dimensione professionale sono per il momento impossibilitato a muovermi di qui scriveva da Genova nel gennaio 1865 Giuseppe Mazzoni ho bisogno caro mio di veder malati e corro su e giù pevicoli di questa città e lungo le riviere davvero mi pesa adesso rilavorare da disperato per tenermi su nella posizione sociale che mi feci lavorando e più mi pesa il completo disfacimento da ogni nostro partito ed indirizzo pur con tutti i suoi limiti di rappresentatività in tempi di suffragio limitatissimo e opinione pubblica asfittica per Bertani però il Parlamento era cornice legittima e imprescindibile dell'agire politico uno di quegli spazi di libertà che un sistema costituzionale garantiva e che andava occupato Bertani non credeva che dal Parlamento degli anni 60 potesse venire la redenzione dell'Italia confessava Cattaneo nel 65 ma riteneva che dalla Camera si potesse far breccia o nucleo nel pubblico e rannodare ed affidare la democrazia al di fuori non c'era in altri scenari pubblicità sufficiente né autorità personale o influenza locale capace di riunire soltanto da un nucleo collocato là in Parlamento si poteva sperare di supplire alle due personalità discordi di Mazzini e Garibaldi il Parlamento in questo senso quasi un microcosmo cavalleresco era uno spazio in cui valevano regole di lealtà condizionata anche rispetto alla questione fede repubblicana e fedeltà alla monarchia senza che ciò appunto potesse suonare come tradimento di se stessi scriveva così a un suo corrispondente il giuramento politico è temporario e nei momenti di tanta evoluzione nazionale io lo considero un impegno a non cospirare contro la monarchia durante il tempo della legislatura con la libertà di deporre il giuramento con la libertà di usare ogni mezzo parlamentare politico in genere per mostrare le pecche della monarchia la sua insufficienza con la focoltà piena di ogni propaganda liberale insomma il giuramento parlamentare è un biglietto di entrata in un torneo molte delle riflessioni politiche affidate alle lettere sarebbero state condensate da Bertani nello scritto del 65 dell'opposizione parlamentare i cui elementi essenziali due anni dopo vennero trasfusi nel programma del giornale La Riforma sottoscritto assieme al milanese anche da Crispi e Benedetto Cairoli si trattava di adottare innanzitutto un cambiamento di prospettiva e di priorità in Parlamento c'è il partito del presente che è quello che governa e deve esserci il partito dell'avvenire incarnato dai democratici non possono i democratici scusare cotesto delirio dell'unità a qualunque costo cotesto unitarismo senza condizioni può fatalmente trascinarci al sacrificio della libertà la bandiera dell'unità che per tanti anni fu la rivoluzionaria e perciò ci ha condotto tanto innanzi è divenuta ormai una bandiera pericolosa per la libertà d'Italia quella bandiera da che fu strappata di mano agli uomini della rivoluzione è venuta nelle mani infide di chi mai la sognò non la volle o di chi la inchina in ansia ad interessi che non sono nazionali questo partito d'azione divelto dal pensiero che comprende tanti uomini possenti per volontà deve anzitutto giurarsi a un patto di libertà il programma sul quale avrebbero dovuto convergere le varie anime della democrazia prevedeva l'indipendenza della magistratura l'abolizione della pena di morte l'introduzione di un'imposta unica proporzionale e progressiva l'estensione a tutti i cittadini non solo degli stessi diritti civili ma degli stessi diritti politici la diffusione dell'istruzione primaria gratuita e obbligatoria garantita da insegnanti congruamente retribuiti di questa base programmatica facevano parte la rivendicazione della piena libertà di coscienza della laicità dello Stato e la limitazione dei beni ecclesiastici Bertani individuava inoltre nel diritto d'associazione una prerogativa paragonabile alla libertà di pensiero elemento centrale era poi l'idea della nazione armata e la polemica sociale culturale ed economica e politica contro il modello dell'esercito di caserma a questa piattaforma programmatica Bertani si sarebbe sempre mantenuto sostanzialmente fedele tentando di creare intorno a tali presupposti larghe convergenze ma anche negli anni successivi della sinistra storica non trova mai davvero un'esperienza di governo in cui riconoscersi completamente negli anni sessanta che offrirono a Bertani altre due occasioni di impegno militante garibaldino sul campo di battaglia nel sessantasei nel sessantasette gli anni sessanta si erano chiusi con uno degli eventi periodizzanti della sua vita il 5 febbraio del sessantanove era scomparso a Lugano Carlo Cattaneo il milanese era il suo capezzale quando morì e scelse Jesse White per rievocare quelle drammatiche circostanze in una bellissima lettera avvergata pochi giorni dopo non so ancora connettere cara Jesse non so dirvi di Carlo se non che è morto né di più potevo dire desolato quando alcuni amici vollero che parlassi innanzi il feretro suo bisognava amarlo meno per poter dire di lui a chi non sentiva sia cerbo il dolore della morte sua e però malbettai parole fredde e sconnesse l'amico è morto concedete che così soltanto io lo chiami il filosofo l'economista il letterato il valente battagliero il patriota senza macchia il fiero repubblicano non è morto per noi nei suoi scritti negli atti della sua vita vi ha tanta copia di lezioni da rigenerare l'Italia nella credenza negli studi nella politica sua possanza ma il cuore dell'amico non batte più e noi non lo vedremmo più aprirci giù l'ivo alle braccia quando lo sorprendevamo nel suo studio a Castagnola o quando sempre premuroso per gli amici scendeva dal suo colle e di notte per incontrarci all'arrivo del corriere in Lugano quando poco più di due mesi or sono venne Mecco Cattaneo al letto di Mazzini allora aggravato egli era già sofferente ed io che dai piedi del letto contemplavo mestamente quei due uomini sicari all'Italia tremavo per la vita di entrambi e sconnetteva il pensiero che per la prepotenza della professione voleva ribrare coi criteri della medicina quale delle due nature fosse più prossimo alla fine e ripensavo alla miseria dei superstiti e raddoppiavo di preghiere e di sforzi perché entrambi fossero gelosi nel conservare la vita quella sera fu una sera mestamente solenne per me ma non credevo allora che i patimenti di Cattaneo dovessero si presto distruggerne la vita dalle finestre aperte e si riferisce invece ora alla sera della morte di Cattaneo un mare di luce un'aurea limpida ed un olezzo singolare in quei giorni primaverili la luce il tepore l'olezzo ravvolgevano il corpo dell'amico disteso su suo letto e vestito ma gli rimaneva freddo e con l'occhio fisso alla sua terra Lugano è per me oramai un luogo di apprensione di dolore il suo bel cielo e i bellissimi suoi colli mi ritornano alla mente come funebri arredi intorno all'amico estinto negli anni il rapporto tra Bertani e Jesse White a cui appunto Bertani aveva scelto di inviare questa lettera si sarebbe fatto sempre più confidenziale e fittissimo il loro carteggio con lei con cui condivideva la miseria dei superstiti sopravvissuti entrambi a Cattaneo Mazzini Garibaldi lo stesso Alberto Mario si sarebbe confrontato più volte sul modo migliore per onorare davvero la memoria di chi non c'era più ormai le scriveva nella primavera dell'84 bisognerebbe occuparsi esclusivamente di onoranze lapidi monumenti commemorazioni le feste mi annoiano e per un amico morto mi ributtano pensiamo ai vivi servendoci dell'esempio dei morti tra le tante cose che unirono Bertani e Jesse White negli ultimi anni dell'esistenza del milanese che attraverso cui entrambi intesero mettere in pratica i propri ideali e onorare la memoria dei loro maestri ci fornò senza dubbio le inchieste sociali che divennero frequente oggetto della corrispondenza tra i due collaborarono soprattutto per quella che fu l'ultima grande sfida di Bertani all'Italia conservatrice al privilegio e in fondo all'idea dell'irriformabilità della condizione umana ma Jesse White confessava in quegli anni che a Roma anche i vecchi compagni di lotta lo volevano silenzioso e docile e che il suo nome era ormai considerato come un ciottolo sulla via ma sta di fatto che gli era arrisa una piccola vittoria quando era riuscito a ricavarsi uno spazio autonomo in quell'inchiesta agraria già proposta da lui già nel 71 approvata nel 1877 sotto la presidenza di Stefano Iaccini sulla scia della quale Bertani aveva ottenuto la direzione di un'inchiesta collaterale sulle condizioni igienico-sanitarie delle popolazioni rurali a questa impresa di denuncia e conoscenza nella cui necessità si era convinto Bertani percorrendo l'agro romano nel 67 con Garibaldi Jesse White aveva dato il suo contributo militante con entusiastico zelo i risultati sarebbero usciti postumi ma per concludere varrà la pena citare dalla nota di Bertani sul metodo adottato per l'inchiesta che venne poi inserita nell'introduzione del volume scindere scindere per il contadino obbligato la questione igienica dalla economica vale quanto rinunciare a risolvere e l'una e l'altra tanto sono compenetrate nei rapporti di causa ed effetto io non temo di essere frainteso dal lettore leale ne penso che si possa credermi avverso il progresso tecnico e meccanico a vantaggio dell'agricoltura bensì vorrei che il beneficio di questo progresso toccasse a chi è razionalmente dovuto e non secondasse in quella vece l'accentramento sempre più rapido e disastroso in numero minore di mani di tutte le ricchezze e di tutte le forze e potenze economiche che ne derivano criterio affatto opposto a quello che ogni buon governo deve proporsi cioè la massima generalizzazione del benessere sociale era quindi opportuna non solo ma urgente e necessaria inchiesta sulle condizioni dei lavoratori della terra e da mettere tutto quanto in luce non bastarono i capitoli a decchi ad esse dedicarno gli onorevoli commissari per l'inchiesta agraria l'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori della terra doveva non solo diagnosticare il male ma doveva indagarne le fonti e indicarne la terapia in queste righe Bertani ci appare ancora una volta lucido lungimirante e radicalmente pragmatico ma anche come un caso paradigmatico di una progressiva e diffusa politicizzazione della professione medica in senso democratico e poi socialista che in un recente suo lavoro ha messo in evidenza Elena Papadia restituire la giusta rilevanza alla sua figura contribuisce dunque a mio parere a illustrare incarnandola la visione di chi visse il risorgimento non solo come progetto unitario ma anche e soprattutto come spinta e cito dalle sue parole a inserire l'Italia nella ringo dell'incivilimento europeo e di chi dunque intese il 1861 non certo come approdo definitivo e progetto compiuto ma come punto di partenza grazie grazie Deva Cecchinato per questa bellissima relazione che ci ha resi parte del cantiere che sta attorno a questo progetto dell'edizione del carteggio di Bertani che davvero appare come un personaggio straordinario poco studiato ma questo materiale penso potrà essere oggetto negli anni futuri di molti lavori proprio perché ne emerge in qualche modo la cabina di regia questi rapporti straordinari che emergono anche nelle lettere nelle diosincrasie con Garibaldi da un lato con Mazzini con Cattaneo i tre personaggi chiavi con cui lui ha rapporti strettissimi ma il quale al tempo stesso prende le distanze insomma quello che ci ha mostrato e di nuovo torniamo anche alla storia delle emozioni insomma raccolte nella vivezza delle lettere penso davvero che sarà un grande lavoro utile che pienamente si inserisce in questo progetto di pensare gli italiani abbiamo credo un quarto d'oro forse anche una mezz'ora di tempo prima di andarcene via per lasciare spazio al dibattito interventi domande dal pubblico lascio quindi la parola a chi si segnala le quattro relazioni Torchio Conti Saltore Cecchinato penso che possono aver suscitato interessi rompo il ghiaccio intanto un pensiero che mi viene potremmo stare qui proficuamente così così più vicino ecco potremmo stare qui giorni e giorni proficuamente a pensare gli italiani perché il pensiero degli italiani non è un pensiero unico l'abbiamo visto e l'abbiamo visto nelle relazioni di oggi che attraverso anche il metodo della biografia biografia e storia quindi cercano anche un accesso un accesso diretto l'abbiamo visto nella relazione di Mircomo molto molto bella direi avvincente perché ci fa vedere come la storia è fatta di singolarità di eccentricità a un certo punto lui ha detto perché così va la storia cioè va sempre diversamente da come viene impostata dai manuali e così appunto la biografia di Bertani ma non voglio fare un discorso generico pensare gli italiani chiedo all'amico Fulvio Conti siamo venuti insieme da Firenze la sua relazione è stata anche un pensare e ripensare i fiorentini pensare e ripensare quella città così particolare e il modo in cui anche ha accolto il servizio provvisorio della capitale d'Italia una pozione di veleno addirittura mi sono chiesto ma perché questo quasi questo terrore di prestarsi all'onore certamente anche all'onere certo un onere organizzativo quello di mettere a disposizione questo gioiello intangibile di città a disposizione della nazione ecco l'ho letto anche nella forma conservativa che è tipica di una certa Firenze primo punto e se quella Firenze non si potesse anche declinare come è stato fatto più volte con il diminutivo vezzeggiativo e forse anche un po' dispregiativo Firenze all'insegna all'insegna del timore all'insegna della copertura all'insegna della autotutela e e della autodifesa e poi dal discorso di Fulvio conoscevo bene ovviamente i suoi studi anche su Dante il tantismo che cosa ha significato quell'anno 1865 una riflessione che mi viene da fare Firenze inaugura il costume perpetuo in Italia della rivisitazione della storia attraverso delle generiche commemorazioni l'anno di Dante l'anno tocca il Dante sì il Dante il in questo caso il primo Dante 1865 e poi e poi 1869 Machiavelli cioè si rifugia sotto le grandi ali delle glorie locali ora io mi chiedo anche che senso compiuto avesse ecco questa operazione da parte di una classe politica che si rivela sempre di più come una consorteria legata agli interessi dei cittadini quindi chiedevo a Fulvio di rendermi più esplicito il rapporto tra Firenze la funzione di Firenze e il resto d'Italia e la nazione perché a volte ho l'impressione che Firenze sornuoti ecco sul mare agitato della nazione disponendo di un enorme patrimonio dei padri e degli antenati ritengo a mio modesto parere che sia tutt'oggi la politica di Firenze l'ultima cosa l'ultima cosa che osserverei Dante Machiavelli e poi e poi anche Savonarola e mettiamoci guicciardini e mettiamoci tutte le glorie locale ma io credo che ci sia una operazione non so se Mario è d'accordo domani parlerà di Francesco De Santis ma ci sia un'operazione che funziona per Firenze e passa attraverso il saluto mirabile veramente commosso del grande De Santis in piazza Santa Croce nel 1871 quando ritornano le ossa le reliquie di Fosco in Santa Croce ecco è la Firenze di Santa Croce cioè è la Firenze che decide di essere quella è e quella è continua a essere in modo autentico il tempio in qualche modo il tempio il tempio delle delle memorie ecco un po' gli italiani hanno avvertito che quello è stata quella è sinceramente la funzione che svolge che può svolgere che ha svolto perlomeno Firenze il ricordo e la memoria ecco il luogo della società letteraria notate bene che la società letteraria non è letteratura a Firenze è un pezzo che la letteratura ha lasciato in posto alla società letteraria che è la istituzionalizzazione della letteratura oggi poi non è più neanche il tempo della società letteraria ma insomma lasciamo fare oggi è oggi ecco ecco una serie diciamo di osservazioni in margine alla relazione di Fuglio prima di dare la parola ecco a Fuglio Conti per rispondere a questi stimoli di Marino Biondi mi domando se ci sono altri interventi Fabrizio tu volete parlare se ci sono Mario Snenghi raccogliamo e poi Snenghi se c'è il microfono due semplici domande a Conti a Saltori per dargli la possibilità di esplicitare cose che sono rimaste implicite ma che hanno solleticato il mio forse non solo il mio interesse normalmente quando nasce un monumento o quando si batteggia la strada ci sono discussioni di sottofondo o non di sottofondo che anche esplodono in bella luce Conti ha parlato di affermazioni di un'egemonia in quel gruzzolo di anni ma un'egemonia si afferma un'egemonia che nasce si afferma se ci riesce questo non c'è l'uscita Conti un'egemonia che viene meno non si divincola questa ci saranno immagino polemiche per l'interpretazione di Dante per l'interpretazione di Machiavelli nel battezzare in un modo o per un altro non viene sarei interessato a questo insomma se ci sono dei movimenti d'opposizione lessicale ideologico politico rispetto a questa copertura del territorio in chiave di egemonia laico massonica poggessista risorgimentale Santori mi ha solitecato quando si ha parlato della solitudine progressiva del personaggio di Ergisto Bezzi questo muoversi da fuori del Trentino in nome del Trentino e senza o quasi i Trentini non sempre in questa maniera in tutti i tempi di una vita abbastanza estesa ma tendenzialmente è così insomma e oggi ogni tanto si faceva riferimento a tempi venuti successivamente alla sua morte di slontanamento ulteriore da quello che lui aveva creduto aveva atteso aveva fatto in nome di che è inserito ad un certo punto se non ho capito male un altro Trentinismo a questo siamo questa è l'attuale situazione o a quando si riferisce questa etichetta abbastanza inquietante tantomeno per l'ombra di Ergisto Bezzi grazie Mario Sneghi ci sono altri interventi del pubblico Timoza Fanfani per riallacciarmi a quello che diceva Isneghi la realtà a Firenze è molto più complessa e anche diciamo quest'operazione filo piemontese o filo savauda diciamo nella odonomastica o anche quell'episodio su cui si è soffermato Conti cioè di piazza d'Azeglio questa nuova piazza che viene costruita la prima piazza l'unica piazza alberata nella nella città di Firenze quindi una piazza piemontese costruita all'interno della città dove vanno a giocare i bambini i figli diciamo degli impiegati piemontesi o degli altri dei parlamentari dei giornalisti dei militari che vengono da ogni parte d'Italia e in questa piazza si sentono i bambini che parlano i loro dialetti che parlano le loro lingue ma De Amicis dice anche che i bambini fiorentini che sono lì a giocare non si intendono con i bambini piemontesi cioè fanno gruppo a sé stanno sulle loro perché non sono in grado di o non vogliono diciamo o non sanno comunicare con quelli che parlano gli altri dialetti e poi va ricordato che questi piemontesi o i settentrionali che arrivano a Firenze dai fiorentini vengono chiamati buzzurri cioè nasce allora questo epiteto spregiativo che viene attribuito poi si un epiteto che diciamo arriverà a Roma e a Roma i papalini diciamo chiameranno così appunto i italiani i loro i loro fratelli italiani che sono arrivati a Roma quindi Firenze non è diciamo fa tante cose è una città appunto è l'Atene d'Italia la città che rappresenta la culla della letteratura e la culla della lingua la culla diventa proprio in questi anni lo vedremo un modello linguistico viene proposta anche come modello linguistico da Manzoni per la Nazione è a Firenze che Tommaseo lavora al suo dizionario il dizionario viene stampato a Torino dall'editore Pomba ma viene fatto a Firenze da Tommaseo e Tommaseo acquista una una casa un appartamento in piazza d'Azzeglio e gli viene truffato e tutti i suoi guadagni finiscono appunto poveretto cioè lui era pensava solo al dizionario e quindi la speculazione edilizia viene raggirato e proprio in uno di questi edifici costruiti in piazza d'Azzeglio quindi è una città complessa e altra cosa per l'odonomastica e qui finisco i nuovi le nuove targhe vengono messe nuove targhe che indicano appunto i personaggi della Casa Savoia la piazza indipendenza e tutte queste nuove via 27 aprile la via della fuga del Granduca e così via cioè tutte queste ridenominazioni delle strade con i nuovi che ricordano che rammentano la popolazione così questi nuovi valori risorgimentali si funzionano sulle targhe ma la popolazione continua ancora a denominare quelle strade o con i vecchi nomi punto piazza Barbano e così via insomma ci sono c'è un'odonomastica popolare un'odonomastica parlata che è stata studiata e tuttora diciamo ci sono denominazioni cioè le denominazioni ufficiali non valgono ma valgono per il popolo per i fiorentini i nomi popolari cioè i vecchi nomi delle strade di un tempo anche queste cose diciamo vanno tenute presenti c'è la rappresentazione ufficiale e c'è il popolo che usa i vecchi nomi o nomi diciamo nomi che non sono quelli ufficiali Moretti ha due minime osservazioni una per riprendere uno spunto di Isneghi se si esce ora Fulvio è stato sulle celebrazioni e quindi è lì che ci si dovrebbe concentrare ma se si esce dal quadro della celebrazione si guarda ad esempio alla ricchissima produzione saggistica che accompagna il centenario di Danto esistono uno in particolare un grosso volume di studi cattolici su Dante concepito come tale come rivendicazione del vero Dante che non è il Dante che stanno presentando a Firenze ma è naturalmente un'altra cosa però ecco qui usciamo dal campo della celebrazione vero e proprio se si allarga il campo si allarga come dire l'ambito dei testi ai quali ci si riferisce la cosa effettivamente a fare più complicata è il discorso meno univocamente definito tutto sommato ma più complesso l'altra è una piccola osservazione in margine la bella relazione di Eva Cecchinato e l'ultimo Bertani tramite Jesse White entra in contatto con Pasquale Villari stretto e secondo me è un indizio non della moderazione delle posizioni di Bertani ma sottrae Villari a questo ingiusto inappropriato collegamento con i moderati toscani con i quali lui in realtà ha pochissimo a che fare non c'entra quasi niente il suo punto di riferimento era Sella certo non Peruzzi e guarda un altro mondo e quello è molto importante sul terreno dell'inchiesta agraria effettivamente c'è una circolazione di spunti di stimoli di collegamenti reciproci che mostrano quanto questa costruzione di una cultura riformatrice dopo il 71 incrini certe nostre categorizzazioni semplicistiche rispetto a quel contesto politico e di conoscenza sociale è la scienza è il rapporto fra scienza e politica proprio quello lì su quel terreno lì che si consolida questa collaborazione grazie grazie Mauro Moretti se non ci sono altre richieste di intervento mi perdono allora magari se vieni qui per maggior comodità ti siedi e rispondono tutti i redatori le belle interessanti e stimolanti domande allora la tazza di veleno e addirittura più o meno stava poco bene in quel periodo Ricasoli dice speriamo che sia questione di poco così non ci si arriva nemmeno non si arriva un passaggio rapidissimo Firenze nel 1878 dichiara il fallimento cioè il comune di Firenze fallisce perché si è trovato i lavori tutta sta roba qui lo Stato non fa niente cioè la fa tutta la fa tutto il municipio la fa tutto il comune tutte queste spese sono in carico la città di questo non c'era non c'era Roma quindi una persona veduta accorta come come Ricasoli consapevole della provvisorietà di questo capisce che quando la roba lì finisce l'arresta dal suo punto di vista il disastro e in effetti prezzi delle case che salgono affitti che vanno alle stelle proibitive ditte che poi dopo nel 1871 negozi falliscono cioè per Firenze è una specie di tsunami da questo da questo punto di vista poi dopo riusciranno anche con una robusta attività di lobbying in Parlamento a concordare rimborsi ma tecnicamente il comune fallisce nel nel 1878 molti anche c'è per esempio tutto certo mondo delle correnti artistiche i macchiaioli vanno via la Firenze non è più da quella vanno a Piagentina vanno vanno fuori comincia questo racconto come dire malinconico di una di una città che non c'è più cominciano le vedute le vedute da lontano il rifugio negli orti Lega Silvestro Lega e gli altri la i centenari come mai appunto voglio dire Dante ho cercato di spiegarlo prima l'aveva già scritto secondo me bene anche in un saggio Bruno Tobia tanti anni fa non è il genius loci è l'emblema della nazione che viene festeggiato in quel momento in quella tu hai rammentato De Santis tu sì tu hai rammentato De Santis nel 1871 per la traslazione in Santa Croce dei resti di Foscolo De Santis nel 1865 è lì a Firenze in rappresentanza della provincia di Napoli scrive il giorno dopo della cerimonia dell'inaugurazione del monumento alla moglie una lettera bellissima che esilarante dice sono stato tre ore ballottato nella non usa ballottato ballottato nella nella folla da Piazza Santa Croce alle cascine se abbiamo aspettato la bandiera da Napoli non è arrivata ci siamo messi sotto uno straccio verde hanno poi poi anche lui manifesta il suo entusiasmo perché all'imbrunire alcune case restano oscurate a Napoli avremmo detto tirate fuori i lumi accendete e racconta aver comprato spilli confetti come ricordo di questa cerimonia cioè la differenza è non so ora non ricordo chi me l'aveva chi me l'aveva posto è nell'impatto ci sono decine di migliaia di persone che non si era mai visto giustamente dice Carlo Dionisotti non si era mai visto niente di simile per rivedere nella come dire timidissima monarchia e governo sabaudo almeno fino all'avvento della sinistra ma poi ancora per un po' masse per le strade in cerimonia di questo tipo si sarebbe dovuto aspettare ancora molto per quello è l'impatto e non a caso De Santis lo mette a confronto con quello del 1869 il 3 maggio una giornata sola secondo me come dire di forte impatto simbolico anche quella come ho cercato come ho cercato di dire e con una rappresentanza che non è popolare ma è politica quando ti arrivano 160 delegazioni di comuni con bandiere con i sindaci il sindaco di Verona Camuzzoni che aveva già che era già stato uno degli artefici nel 65 e molti altri insomma ha un significato forte e io ho cercato di sottolineare questi punti che si ritrovano sia nel 65 e nel 69 questo omaggio delle bandiere omaggio del simbolo dei municipi e quindi delle popolazioni locali qua come nuovo pleviscito cioè perché fra l'altro quella era anche una delle questioni sul tavolo nel dibattito politico specialmente da sinistra c'era Mazzini e tutti i suoi che negavano il valore del plebiscito e contestavano le scelte fatte chiedendo la costituente insomma la questione della mancata il patto costituente che non c'era stato fra l'altro la come dire la la connotazione la connotazione laica Mauro sì c'è il libro dei dei cattolici ma capito non c'è il il tedeum non c'è il non c'è la croce non ci sono i preti nel corteo ha un significato nettissimo se noi lo paragoniamo in prospettiva con quello che succede nel 21 il 21 centenario cattolico 1921 il comitato che si costituisce il comitato che si costituisce a Rabenna si costituisce addirittura nel 1913 c'è una presenza cattolica di tutti i gruppi le rappresentanze le donne la Fucci i giovani i quelli da Assisi quelli altri da una quantità industriale c'è l'enciclica di Benedetto XV che poi verrà richiamata da Paolo VI nella Altissimus Cantus nel nel 1965 Dante è nostro laddove Settembrini secondo me giustamente coglieva il fatto lo hanno lo colleva lui faceva piacere e amava sottolinearlo il prete non c'è il prete non c'è esatto 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 e quando ancora Roma è l'ambizione di tutti e quindi è una uno strumento anche di mobilitazione della pubblica opinione Pisa le manifestazioni per Galileo del 64 sono una prova del 9 di quelle del 65 ma poi per dire tutto si tiene è stato evocato quella anche Savonarola l'autore del Dante di Piazza Santa Croce Enrico Pazzi che è massone anche qui delle tante cose di Bertani anche questi aspetti rilevanti viene affiliato alla più importante loggia massonica di Firenze la loggia concordia quando arriva a Firenze sarà lui che fa la statua di Savonarola con le spalle rovesciate alla chiesa e Savonarola c'è fra l'altro in preparazione una bella spero si concluda presto una bella tesi di dottorato a a Pisa alla normale un'allieva di Lucia Felici che sta lavorando sul mito di Savonarola nell'ottocento quando nel mille ottocento ottantuno a Roma c'è la processione per per onorare la memoria di Pio IX i fiorentini organizzano una processione in Piazza Santa Croce là dove Savonarola fu fu arso quindi c'è una appropriazione dei gruppi anticlericali razionalisti molto eh molto molto esplicita e le fratture appunto nel sessantacinque eh un po' ha già risposto anche Mauro dicendo di questa risposta che sta però in un ambito alto eh eh in Piazza le fratture sono nelle in alcune assenze illustri per esempio Dolfi richiamato dal carteggio con Bertani capo popolo fiorentino in vita Garibaldi e Garibaldi non non va non viene e ancora nonostante sia il Garibaldi che l'anno cioè a maggior ragione il Garibaldi che l'anno prima a Londra aveva le centinaia di migliaia di persone che lo salutavano eh nel suo viaggio ehm è ancora un po' corrucciato eh perché per quei medici che gli hanno tirato fuori la pallottola appunto nel nel 62 a Pisa con tutto un culto di reliquie che è meraviglioso insomma eh non c'è non c'è Ricasoli Ricasoli prende e va via sdegnato prima che arrivi il re per le cerimonie prende e va a a Brolio quindi mh come dire però è un momento mh come dire relativamente ecumenico fatti fuori la componente clerico moderata in quel momento eh nella quale l'ala eh liberale insomma comunque dai dai Ricasoli a Cambredigny eh a tutti gli altri fino a quella democratica si riconosce sotto questa sotto questa insegna e mi è sembrato mettendola insieme con il centenario macchiavelliano poi ci ho messo anche questo del congresso medico per vedere il congresso internazionale dei medici due anni prima quello di statistica dopo quello voluto fortemente voluto da De Gubernatis e degli orientalisti questa citava la principessa Orloff proprietaria degli orti della villa di Palazzo Lucellai questa dimensione internazionale che Firenze messa via la la capitale cerca di 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 sicuramente è quella nella quale si riconosce ho scritto un'altra cosa già pubblicata non c'è una traccia di memoria di Firenze capitale se tutte le volte in cui ricorre qualche centenario andiamo su Wikipedia a rivedere dove era il palazzo del dove era la camera dove era il senato dove era il palazzo del ministero dell'agricoltura dove era quello dell'interno eccetera non c'è una lapide sulle facciate dei palazzi o degli ex conventi fiorentini che ospitarono le sedi istituzionali di Firenze capitale ce n'è una in Palazzo Vecchio nel salone 500 di Palazzo Vecchio che ospitava la camera ma mette in fila prima quel posto che era sì sì no sì sì no no certo sono però sono 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 però rare insomma mentre per dire quella che c'è al salone del 500 si dice che lì fu pronunciato l'atto della Repubblica Fiorentina nel 1530 lì fu proclamato il 27 aprile 1859 la cacciata di Lorena e lì da ultimo c'è stato anche per un po' il Parlamento del cioè ha messo in fila una gerarchia precisa Repubblica Fiorentina 27 aprile e 1865 il Parlamento ecco forse non la tazza di veleno ma c'è anche quel sonetto quelle versi beffardi che fanno che diranno appunto mentre Torino piangeva quando il prince parte insomma ora non me lo ricordo la solito sarcasmo fiorentino per dire che erano contenti non gliene fregava nulla basta sì io diciamo che non posso fare altro che concordare con quanto osservato da Mauro Moretti collegandosi per esempio all'esempio di rapporti tra Bertani e Villari sì io penso che alcune categorie descrittive e interpretative non siano sempre utili a comprendere le cose e invece situazioni come quelle che emergono anche dall'epistolario ma soprattutto anche dalle ultime fasi degli ultimi anni di Bertani mettono in crisi alcune categorie che siamo abituati ad usare soprattutto quando un approccio politico è fortemente determinato anche da una formazione di tipo scientifico sono perfettamente d'accordo quello cambia molto cambia tantissimo sì allora sulla solitudine giusto del personaggio Bezzi solitudine progressiva sì allora il personaggio è abbastanza irsuto come abbiamo visto e si è capito quindi c'è una tendenza secondo me è un po' misantropa secondo me spariscono quelli che sono i suoi riferimenti politici maffini garibaldi vede che non c'è più spazio non c'è più contesto per il suo modo di intendere anche l'azione politica sicuramente questa per lui non è il parlamento ecco è un astensionista antiparlamentarista sempre scrive scrive a Ghisleri una lettra una lettra in cui si definisce estensionista rivoluzionario e dice da Visconti Venosta Bertani Crispi Fortis tutti quanti furono rovinati entrando in parlamento è là che la monarchia corrompe tutti i repubblicani quindi sì c'è un ripiegamento che è in parte ripiegamento sul suo lavoro ecco io questo non l'ho accennato però poi lui diventa anche un piccolo imprenditore di una fabbrica di tappi di sugheri insomma però c'è qualcosa di sarcastico in questo suo atteggiamento secondo me un po' di autocompiacuto e dov'è che viene fuori questo questo lato nelle lettere numerosissime che scrive perché ecco è vero che è un isolato e è un ripiegato in quanto ad azione politica pratica però ha una grande trama di rapporti epistolari e poi soprattutto si trova in nel Giuseppe Locatelli Milesi spero si pronuncia si pronuncia Milesi o Milesi non so io dico Milesi proprio un confidente con il quale si scrive quasi quotidianamente insomma oltre a questo è anche uno che scrive abbastanza sui giornali quindi sarebbe anche bello prima o dopo fare un un censimento di queste dichiarazioni lettere aperte prese di posizione di Beffi sui giornali ci tiene a far a far a far emergere insomma la la propria idea però anche in queste lettere a Locatelli risulta sempre Beffardo è sempre un po' io l'avevo detto che poi finiva così quando c'è le manifestazioni appunto per i 50 anni dei mille e c'è Abba che non mette la medaglia quindi non lo riconoscono e quasi lo cazzano dal palco e lui dice il calcio dell'asino l'hanno avuto i mille ben sta loro sono stato profeta questi dicono ma chi è questo Abba vestito da strazione che vuole occupare la tribuna dove vi sono tanti signori per bene ed egli mozo mozo batteva in ritirata forse per la prima volta in 50 anni e proprio nella città dei mille credeva l'insenuo che aver cantato i mille la presenza del re della regina si sarebbe fatto conoscere anche in quella sfera non pensava che per esservi ammesso bisogna abbiurare il passato e farsi cortisano ma questa pedata non li farà rinsavire presteranno il deretano ancora perché chi si ecclissa è dimenticato ecco il personaggio è questo ed è ovvio che accanto a questo suo piccolo mondo comunitario con il quale lui è in relazione non può avere un grande spazio secondo me nel dibattito pubblico politico poi ha un'improvvisa esplosione di gloria nel 1919 ecco in Val di Sole viene festeggiato lui torna nel suo paese la casa viene addobbata con bandiere d'Italia torna effettivamente ad essere isolato un poco dimenticato secondo me durante il fascismo per poi essere recuperato da quella storiografia Mario Isnenghi la conosce bene parlo della Bizeriffi insomma a cui ha dedicato un bel libro la mia amica Paola Antolini Pietro Pedrotti insomma ecco queste figure che recuperano con intendimenti democratici repubblicani e antifascisti queste figure poi è tornata un poco nell'oblio io non ho usato l'austro l'austro trentinismo anche se mi piace come termine sono tornate nell'oblio un poco per i nuovi indirizzi della storiografia trentina quel poco che c'è ottocentista che si può dire si è aperta appunto a nuovi contesti nuovi ai contesti austriaci lasciando fuori tutte queste queste vicende complesse e poi nel dibattito pubblico per il montare a questo mi riferivo di un austriacantismo velenoso minoritario ma fino a un certo punto che secondo me io devo dire qua faccio il beffi ero stato buon profeta tipo tredici anni fa quando mi sono messo a fare le prime polemiche e molti dicevano ma sì ma è un affare un po' di qualche nostalgico la cosa invece è cresciuta in maniera inquietante avvelenato l'ambiente storiografico e non solo insomma va bene sono stato vittima più volte anche sulla stampa perché io ero quello pezzolato dalla provincia chissà perché poi per instillare l'italianità nella testa dei trentini avevo la grande colpa dicevano di essere l'allievo del quinto Antonelli perché solo che facevo anche ridere ero anche comico quindi sì adesso Bezzi è un po' dimenticato per tutto questo anche se è da dire che due anni fa al centenario della morte si sono fatti si è fatto un interessante convegnetto nel paese di Cusiano è stata messa una targa insomma c'è stata una cerimonia simpatica con con una presenza anche notevole della popolazione locale incuriosita insomma ecco non so se ho risposto Mario la missa rossa ce l'aveva il trombettista della banda che ha suonato delle arie verdiane benissimo abbiamo fatto le sette e dieci sospendiamo per un attimo e riprendiamo domattina alle ore nove grazie a tutti